Mi pensavo d'accordo, Donatella? Sì. Professore, noi pensavamo appunto di cominciare anche verso le 9 e un quarto, visto che comunque le persone che anzi, saluto perché siamo già in streaming sul canale di YouTube, quindi benvenuti a tutti coloro che stanno collegando. Quindi verso le 9 e un quarto, se lei è d'accordo, cominceremmo una quarantina di minuti per avere qualche stimolo da lei, una prima relazione. E poi, se lei è d'accordo, possiamo anche raccogliere qualche domanda, provare a fare un po' di dibattito. Lei fino a che ora può fermarsi? Appunto, io verso le 11 vorrei sganciarmi, perché dopo ho altri impegni. Va bene. Quindi io direi, se partiamo alle 9 e un quarto, fino alle 10, diciamo, 10 e un quarto, faccio la lezione io, 50 minuti, poi secondo me possiamo fare delle domande, di interagire, eccetera. E poi, siccome ho visto che secondo l'attore... C'è Marco. Marco. Possiamo fare anche domande, magari interagire anche con lo stesso Ursi, cioè come preferisce. Va bene, va bene. Va bene, Marco? Ma sì, va bene. Anzi, credo che sarà stimolante la sua relazione e magari... Sì, possiamo così. Io ho... Allora... Insomma, volentieri, volentieri. Bene. Allora, vi ricollego alle 9 e un quarto in punto, allora. Come preferisce, va bene. A 9 e un quarto cominciamo, Marco? Per me va bene. Bene, va bene. Ok, sì. Io due minuti prima alle 9 e un quarto mi collego, va bene? Benissimo, benissimo. Ottimo, arrivederci. A più tardi. Sì, intanto chiediamo la pazienza a coloro che fossero stati puntuali. Buongiorno. E aspettiamo, diamo modo un pochino a tutti di entrare, per cui se nel frattempo vi volete mettere comodi, insomma c'è il tempo anche per farsi un piccolo caffè e alle 9 e un quarto poi cominciamo, ecco. Nel frattempo io non ho sott'occhio chi sta entrando appunto anche in streaming. Magari chiedo a Marco, a Matteo, a Silvia, ecco, di darmi qualche indicazione anche sulla chat in modo che ci sappiamo un pochino orientare rispetto ai tempi. Sì, siamo a 32 persone. No, tra l'altro dicevo, Donatella, abbiamo qualche minuto, io dicevo anche, ecco, se vogliamo un attimo anche rilustrare un po' l'argomento che affrontiamo oggi in continuità con quello che è stato fatto la volta scorsa. E ora te la volta scorsa non c'eri, per motivi personali, però è stato molto importante. Mi sembra che... Patrizia, te c'eri, no? Dì, come no, come no. Bravissima, tutti e due, ma soprattutto la professoressa... Ciaccardi. Ciaccardi, veramente, veramente bello, veramente bello, stimolante, che ti apre... Cioè, quelle persone che ti fanno venire e la sensazione è che quelle cose che te hai sempre pensato in forma nebulosa possono avere in realtà una loro validità, una loro scientificità veramente brava. Sì, sono state... Sì, 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 anche Rosina... Sono quelle cose che sì, vorresti dire qualcosa lì per lì, però poi ti rendi conto che avresti bisogno di ridare forma al tuo pensiero. No, tra l'altro... È una domanda, Marco, ma il professor De Toni, questo qui, è quello che diede il nome alla commissione tanti anni fa sulla riforma dell'educazione dell'istruzione tecnica e professionale? Può essere. Stavo cercando su internet per vedere... Sì, lui se ne è occupato di queste cose e è stato rettore... Poi Donatella lo presentirà... È stato rettore dell'Università di Udine. Si occupa di management e gestione aziendale. Sì, quindi è probabile che sia lo stesso. Stavo cercando un po' su internet per capire se era lui, ma penso di... Sì, 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 credo che sia proprio lui. Sì, no, io per esempio anche... Nel mio intervento, nel mio intervento perché... Che sostituisce quello di... Pugatella. Riprenderò anche alcune analisi fatte da Alessandro Rosina. Sì. Perché lui è stato puntuale, dandoci un po' dati sulla situazione del nostro paese e in particolare sul fatto che lui insiste e purtroppo ha ragione che l'Italia non è orientata ai giovani, ecco. E quindi lui diceva bisogna assolutamente che il piano nazionale della ripresa e la ripartenza sia orientato molto alle giovani generazioni, insomma. E poi mi ricordo... Il problema è essere così, il next generation... Il problema è essere così, però... Stiamo lo scameramento. I dati sono... Bisogna cambiare un po' i dati, ecco. Per esempio lui... Buongiorno, volevo solo dire... Scusate se vi interrompo che siamo... Ciao, buongiorno. Siamo già oltre 60 spettatori su YouTube. Prego. Sì, sì, no, dicevo questo. Poi, per esempio, la Giacardi, io ho qui gli appunti. Una delle cose che sottolineava è il fatto che noi parliamo di ripartenza e questo nome sembra voler indicare che bisogna riprendere... Ma dove eravamo rimasti. Come si faceva prima, in sostanza, no? Invece, anche dopo la pandemia, lei dice, bisogna pensare a un nuovo inizio. Un nuovo inizio. Non a ripartire to cure con le modalità di funzionamento della società, delle scuole, delle aziende prima della pandemia. Insomma, e ha fatto tutto un discorso sulla qualità, che tra l'altro ha ripreso anche Rosina, insomma. No, ma anche perché è oggettivo quello che dice lei, che il mondo non è più quello di prima. E quindi bisogna ripartire da un'altra parte. Bisogna progettare un nuovo inizio e soprattutto un nuovo futuro. Mi ha colpito molto quello che lei diceva sul fatto che noi cerchiamo sempre di inserirci in dei modelli precostituiti. Invece, in realtà, dovremmo avere la capacità di inventarci dei modelli nuovi e poi orientare le cose perché si realizzino. Noi invece cerchiamo sempre lo schema precostituito, un po' per pigrizia mentale, un po' per abitudine, per pigrizia sostanzialmente, perché è più facile. Ma a tutti i livelli, non solo personale, anche politico. Certo. Sì, sì. Tra l'altro sarebbe anche utile, a parte abbiamo la registrazione di questi due interventi e registreremo ovviamente perché siamo... Anche con la mia oggi. Però l'idea era anche quella di fare anche un piccolo resoconto scritto sia degli interventi dello stesso seminario, di questo e del prossimo. ecco, in modo che rimanga anche qualcosa per riprendere un po' e ricordarci le cose che sono state dette. Sì, come no, certo. Boh, se avete bisogno, io sono sempre disponibile. Eh, ma ascolta, tanto ora stiamo aspettando, ma se tu te la senti di fare... di fare degli... Io te la butto lì, insomma. Se te la senti di fare un piccolo resoconto degli incontri dell'altra volta... Come no? Sarebbe molto carino, Patrizia. Sì, 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 ovviamente li riprendo, me li rivedo, me li risento. Sì, 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 sì. Perché Fabio, mi sembra, te hai la possibilità di rivederli. Sì, su YouTube, credo. Allora... Siamo utilizzati già anche ricondividendoli alcuni interventi dal link dove, no, i due interventi sostanzialmente. Quindi sono già sul nostro canale. Se Patrizia ha intenzione di poi farlo, questa cosa ci sarebbe una cosa molto bella. Potremmo farlo, pubblicarlo sul blog, metterlo in newsletter come i report, diciamo così, no? Dei seminari, secondo me, possono avere uno spazio importante. Ecco. Magari chi non ha il tempo con la voglia di andercela a rivedere, però due righe le legge. Sì, sì, infatti. O magari legge le righe e poi dopo c'è anche... Esatto, e poi approfondisce, no? Di nuovo. Sì, certo. Sì, sì. Sì, sì, tranquillo. Va bene. Nel frattempo, buongiorno a tutti coloro che stanno collegandosi sul canale YouTube dove trasmetteremo in streaming l'incontro di questa mattina, il secondo incontro di un ciclo di seminari che ci vede impegnati in queste mattine di luglio sul tema del management e soprattutto della leadership. Ecco, sempre nel tentativo di riflettere insieme su come poter costruire una scuola più efficace, innovativa, che vesta un vestito adatto al millennio che stiamo vivendo e alle sfide della nostra contemporaneità. Ci siamo dati come obiettivo di cominciare intorno alle... anzi, puntuali alle nove e un quarto in maniera da dar modo alle persone di collegarsi, insomma, con un pochino di calma e di organizzarsi per questa giornata, per questa mattinata che ci vedrà insieme per tre ore fino a mezzogiorno insieme al professor De Toni e a Marco Orsi. Purtroppo, per un imprevisto dell'ultima ora, Rivoltella, che è Cesare di Rivoltella che doveva essere con noi questa mattina, non ce la farà, ma sarà degnamente e sicuramente sostituito da Marco che proprio negli ultimi... Indegno. Negli ultimi mesi del suo lavoro si sta concentrando in modo particolare su questi temi per cui ci potrà, insomma, un pochino anche condividere i frutti della sua ricerca e della sua riflessione più recente, nonché della sua esperienza di uomo di scuola, di dirigente e di presidente di un'associazione che da vent'anni ormai trova a portare l'innovazione appunto nel mondo della scuola e dell'educazione. Sono le nove e tredici, ci diamo veramente ancora un paio di minuti e poi partiamo. Benvenuti a tutti. Grazie. 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 Bene, allora avevamo detto di partire alle 9 e quindi ci sono le 9 e 17 in questo momento per cui per non venire meno agli impegni che ci eravamo adesso adesso assunti io direi di cominciare. Siamo in attesa che il professore si colleghi di nuovo con noi, il professor De Toni che è appunto uno dei due di Scassant di questa mattina e si era già collegato alle 9 puntualissimo e adesso ci raggiungerà. Aspettate che sento la mia voce. Ok allora intanto se possiamo in ogni caso darci un po' il benvenuto provando a ripercorrere insieme la cornice nella quale la mattina di oggi si colloca. Dicevamo un'occasione di formazione, di incontro, di discussione. La discussione con questi mezzi non è mai semplicissima ma già da adesso vi invito eventualmente a porre le questioni, gli stimoli, le risonanze che dovessero venire dalle due relazioni che questa mattina ascolteremo sulla chat del canale YouTube così le possiamo riprendere poi e porre appunto ai nostri relatori. Quindi in qualche modo proveremo anche a recuperare il tema della discussione e del dibattito tra noi che è la cosa, la forma che ci piace di più nell'organizzare il nostro modo di incontrarci. Tre seminari sulla leadership educativa leggera e la comunità educante. Questo era il diciamo titolo di sintesi che descriveva, che descrive i tre incontri che l'associazione Senza Zaino promuove l'8, il 15 ed il 20 di luglio. L'8 di luglio, la settimana scorsa, abbiamo avuto modo di confrontarsi con due sociologi, con la dottoressa Chiara Giaccardi e con il professor Rosina, che ci hanno aiutato proprio a leggere in qualche modo il contesto attuale, lo scenario nel quale ci troviamo immersi dal 2020 in poi, uno scenario che ha cambiato profondamente il modo di pensare la scuola, ma anche il modo di pensare la socialità, le relazioni e anche il modo di immaginare il proprio ruolo nel mondo rispetto ai ragazzi, alle ragazze, i bambini e le bambine che si sono trovati protagonisti di questa, diciamo, inedita era, in questa inedita epoca. Lo scenario ci serviva per collocare quello che è invece l'approfondimento che faremo questa mattina, quando ci confronteremo e ci concentreremo proprio sui temi dell'organizzazione, del management e della leadership. Concluderemo poi il nostro, diciamo, viaggio intorno a un aspetto importante per immaginare la scuola di oggi e di domani, una scuola che davvero sia in grado di accettare, interpretare, rispondere alle sfide della contemporaneità, passando poi invece a riflettere insieme sul tema della comunità educante, un tema che c'è molto caro come Movimento Senza Zaino ed anche nello specifico come progetto L'ora di lezione non basta, che del Movimento Senza Zaino è un impegno recente che prova proprio a contrastare la povertà educativa sui territori con azioni sperimentali di laboratorio che possano indicare anche delle risposte in qualche modo nuove, no? Che la scuola e la comunità insieme possono costruire. Per cui ecco, un piccolo viaggio che parte dall'analisi del contesto, ci aiuta a riflettere insieme sulla scuola come organizzazione ed infine ci, diciamo, porta, ci conduce ad un viaggio di conoscenza, di riflessione insieme su come si costruisce la comunità educante, quali possono essere anche i modi, i luoghi, gli strumenti per facilitarne la, diciamo, la costruzione. Ecco, questa mattina invece in particolare parleremo di organizzazione. Per farlo abbiamo invitato un, diciamo, un interlocutore che ci può portare esperienza, riflessione e ricerca come il professor De Toni che nel frattempo ci ha raggiunto e che tra un minuto vado a presentarvi. E poi appunto, come dicevamo, purtroppo l'amico Piercesare Rivoltella questa mattina non può essere con noi e continueremo quindi questo, diciamo, dialogo interagendo invece con il presidente dell'Associazione Senta Zaino, con Marco Orsi, che dicevo a coloro che già si erano collegati nei primi minuti, diciamo, di questa mattinata, ultimamente soprattutto si è concentrato, ecco, proprio sulla riflessione rispetto alla scuola come organizzazione, al management scolastico e alla leadership all'interno della scuola, dove si collocano queste tre giornate che vi ho appena tratteggiato e discusso e, diciamo, introdotto. Si collocano all'interno di un percorso che l'Associazione Senta Zaino a vent'anni dalla sua nascita sta compiendo anche su una serie di temi che erano rimasti sullo sfondo, benché sempre presenti, della sua riflessione. Non solo didattica, quindi, ma anche organizzazione per cercare veramente di cambiare quello che molte volte Marco definisce come appunto un pachiderma liquido, no? Quindi come un qualcosa che è estremamente complesso da gestire, come la scuola oggi appare. Un cambiamento che chiede sicuramente competenze multiple ed interdisciplinarità e ci piace che anche questi tre seminari che vi proponiamo abbiano proprio questo carattere in qualche modo e abbiamo convocato tutta una serie di voci che rappresentano anche mondi che con la scuola interagiscono pur essendo in qualche modo esterni alla pratica didattica di tutti i giorni. Lo facciamo anche grazie allo stimolo che ci viene da un progetto di cui io sono una dei coordinatori, ma qua appunto collegati ci sono anche altri membri della cabina di regia, vedo tra gli altri Fabio Angeli che è responsabile della comunicazione, Marzia Nieri che è invece la responsabile più scientifica, diciamo, dei contenuti, Matteo Franchi che è della segreteria appunto della cabina di regia e poi insomma molti altri che condividono il cammino con noi come per esempio Patrizia Nesi che ci dà una mano in quello che è un po' il gruppo di lavoro proprio rispetto alla comunità educante. L'Ora di lezione non basta è un progetto nazionale finanziato da Coni Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto alla Povertà Minorile insiste su otto regioni italiane coinvolgendo quindici istituti scolastici ed altrettanti partner nazionali con un approccio che è un approccio davvero multidisciplinare che agisce su più livelli della vita educativa, diciamo, dei bambini e delle bambine dentro e fuori la scuola ambisce a contribuire a ridurre la povertà educativa e a rendere la scuola un ambiente non solo dove si sta bene ma dove si può diventare pienamente se stessi in qualche modo. Oggi tra coloro che sono collegati ci sono molti dirigenti e insegnanti che condividono con noi questa avventura, li saluto e magari sarà bello anche nella fase di interazione e raccogliere un po' anche quello che è il loro vissuto e gli stimoli che anche grazie all'esperienza del progetto sicuramente stanno copiosi arrivando in questi ultimi mesi. Il progetto si è avviato ormai da un paio di anni anche se sono stati anni funestati dalla pandemia per cui è evidente che sta andando a passi un po' lenti e incerti ma comunque ha tenuto, questo ci sembra già un enorme risultato. Allora entriamo subito ecco nel pieno della discussione di questa mattina i contenuti saranno sicuramente molti e quindi non ha senso togliere ulteriore tempo ai nostri ospiti e io mi accingo a presentare il primo di questi che sicuramente non è presentabile in un minuto perché è un uomo, un professionista, un professore, un dirigente che ha una grandissima esperienza, una lunga esperienza e che di conseguenza non è racchiudibile diciamo in poche frasi. Sì appunto parlo del professore Alberto Felice Detoni professore presso l'Università di Udine accademico quindi e ingegnere che ha lavorato in una serie diciamo di gruppi industriali e poi si è dedicato alla carriera appunto accademica all'interno dell'università ricoprendo ruoli molto importanti è stato anche rettore appunto dell'università da prima presidente del corso di laurea e poi rettore dal 2013 al 2019 e poi diciamo ha partecipato all'esperienza ad una serie di comitati e di associazioni che promuovono un lavoro importante di ricerca e di incontro, di scambio nel mondo dell'università e di appunto anche divulgazione moltissime le opere che ha scritto alcune davvero particolari su campi molto diversi cito soltanto le ultime nel 2021 anticipare il futuro corporate foresight nel 2020 ulteriormente era stato guidare le imprese sull'onda della complessità e poi è uscito anche un libro del 2018 scritto a quattro mani con Stefano De Marchi scuole auto-organizzate verso ambienti di apprendimento innovativi a dire che il professor Detoni non solo in quanto lui stesso docente ma anche in quanto persona che ha ricercato sul tema è sicuramente una voce che ci può aiutare a comprendere come il tema della leadership e del management incrociano la possibilità di organizzare scuole che siano davvero scuole significative direi per i bambini e le bambine, ragazze e le ragazze che le frequentano professore le lascerei subito la parola abbiamo circa 50 minuti per il piacere di ascoltarla e poi come dicevamo cominciate pure a esprimere le vostre domande le vostre risonanze sulla chat di YouTube sarà nostra pura raccoglierle per porle poi al professore e provare benché a distanza ad articolare una piccola discussione con lui grazie di aver accettato il nostro invito bene allora grazie a tutti voi grazie a Marco Orsi che appunto è stata appunto vent'anni fa il fondatore di questo movimento che tra l'altro ha un bel nome ecco perché la leggerezza voglio ricorderlo è una delle cinque lezioni di Calmino ed è molto intrigante come riflessione allora sono quasi le nove e mezza io mi sono preparato una lezione appunto su 50 minuti e poi abbiamo concordato appunto anche con la donata Laturri di lasciare una mezz'ora di discussione fino alle 11 quindi avremo tempo di diciamo affrontare il tema allora io adesso condivido lo schermo eccoci qua adesso entro entro sulla apro il file eccoci qua eccoci qua adesso dovreste vederlo esatto perfettamente prego bene bene allora scusate che la recondizionata mi ha creato questa mattina un po' di tosse allora io sostanzialmente vorrei parlarvi di auto organizzazione nelle scuole perché vorrei farlo perché ecco nell'esperienza che ho avuto l'esperienza più importante che ho avuto nelle scuole lo dico perché non mi conosce è stata quando ero preside della facoltà di ingegneria e architettura e l'allora ministro Fioroni mi chiese di presiedere la commissione per la riorganizzazione dell'istituzione tecnica e professionale io ebbi l'onore di presiedere una commissione di circa 40 persone eravamo un parlamentino dove c'erano dentro moltissime diciamo erano rappresentate tante persone c'erano i sindacati no confindustria non c'era, pardon, neanche i sindacati ma erano gli attori esterni c'erano dentro sostanzialmente tutti i rappresentanti dai salesiani a diciamo alle scuole professionali regionali insomma mi sono reso conto partecipando che gli attori legati alla scuola sono tanti e con interessi diversi e politicamente non facile da far convergere ecco durante quell'esperienza lì ho toccato con mano perché ho visitato molte scuole sono stato anche ad assemblee con 400 professori quindi ho colto l'articolazione, la complessità del mondo scolastico che è molto diverso e variegato per tipo di studi, per tipo di territori eccetera ecco e come dicevo ieri a Marco Orsi quando ci siamo sentiti che cosa avevo percepito durante questa esperienza l'esperienza che è durata appunto la commissione è durata circa sei mesi e ci tengo a dire abbiamo finito un'anime poi il lavoro e poi l'applicazione è durata altri due o tre anni quindi ho praticamente seguito per alcuni anni tutto il percorso ecco e come dicevo appunto a Marco Orsi quello che ho percepito è che in pratica c'è sempre una grande attesa dal ministero una specie di liturgia delle circolari si pensa che lì nella stanza di bottoni ci sia qualcuno che pensi alla scuola non è così cioè non è così cioè io non voglio deludere non voglio deludere i colleghi che sono collegati però la verità è che i veri protagonisti e i veri attori sono quelli che vivono la scuola cioè i docenti il personale non docente i dirigenti scolastici eccetera eccetera e allora siccome nel frattempo io ovviamente sono un ingegnere industriale che poi ha fatto un dottorato in scienza di innovazione in scienza di innovazione industriale e mi sono sempre occupato sostanzialmente di tecnologie di innovazione e di organizzazione ecco anche nelle imprese i successi più forti si hanno quando c'è una fortissima componente auto-organizzata dentro l'organizzazione quindi quello che mi sono permesso di fare è stato di sostanzialmente traslare tutta una serie di riflessioni che valgono per il mondo delle imprese alle scuole e qui attenzione so già qual è la critica ma la scuola non è l'impresa no calma attenzione le finalità sono diverse ma i sapiens sono gli stessi cioè i comportamenti organizzativi dentro l'organizzazione che siano organizzazioni economiche religiose associative o educative i comportamenti sono gli stessi ecco allora io adesso in questo in questa diciamo 50 minuti io vorrei sostenere questa tesi che l'auto-organizzazione è la vera comice entro cui le scuole possono trovare una loro realizzazione ecco voglio dirvi un'altra cosa io fui chiamato a fare il presidente della commissione dopo che una commissione precedente aveva fallito perché adesso non voglio fare i nuovi perché qui non si tratta di trovare i colpevoli però voglio dirvi il perché perché alla fine diciamo nella scuola c'è una prevalenza fortissima del tema del tema pedagogico educativo eccetera la questione organizzativa è considerata non in serie B in serie C ed è una cosa di cui dice vabbè basta farla la faccia qualcuno ed è questo l'errore di fondo cioè non c'è nessuna azione educativa pedagogica che può diciamo essere realizzata se non c'è una forte componente organizzativa e quindi c'è proprio una diciamo una sottovalutazione della della cosa e questo crea gravi problemi di funzionamento cioè nonostante voi abbiate bravi professori eccetera eccetera ma se non avete un'organizzazione che sostiene l'azione educativa spesso c'è il rischio del fallimento ecco per cui per cui io oggi voglio stressare il tema dell'organizzazione anche perché il tema educativo ci sono ben altre persone più competenti di me che possono trattarlo allora queste tematiche dell'auto organizzazione come vi ha anticipato poco fa la donatella io sostanzialmente le ho scritte insieme tra l'altro a un scusate a un dirigente scolastico di una scuola di una scuola di Treviso che pensate è venuto a chiedermi di fare la tesi di dottorato lui faceva il prof e diciamo ha fatto il corso di dottorato e alla fine abbiamo fatto delle ricerche e alla fine abbiamo fatto questo libro scuole auto organizzate e che è dedicato agli eroi della scuola perché alla fine dentro la scuola non c'è nessuno che obbliga nessuno per cui alla fine è soltanto la presa di responsabilità dei docenti che li fa impegnare non c'è nessun sistema onestamente di premio che funziona o di sanzione per cui alla fine è tutta lasciata ecco attenzione non è molto diverso l'università e per cui io ho fatto sei anni il presidente corso di laurea sei anni il presidente sei anni il rettore poi ho fatto quattro anni il presidente il segretario della conferenza dei rettori e gli ultimi due ho fatto la presidenza della fondazione dei rettori quindi ho tanti anni di gestione e io lo so che i colleghi che si impegnano sono una minoranza quindi lo dico all'università non voglio dire della scuola però ve lo posso testimoniare però questo 20% che alla fine ha un orientamento eroico perché alla fine crede nell'educazione crede nella scuola ecco e quindi ecco perché l'abbiamo dedicato agli eroi della scuola i quali creano ambienti di avventimento in maniera in maniera autonoma ecco noi la ricerca l'abbiamo sostanzialmente fatta quindi su due ambiti gli ambienti di apprendimento e l'organizzazione di supporto ecco come vi dicevo questo tipo di risultato nasce da studi precedenti questo è un libro che ho fatto nel 2011 e che è dedicato proprio al tema delle auto-organizzazioni che l'auto-organizzazione non è un fenomeno soltanto sociale è un fenomeno anche nel mondo fisico o anche nel mondo biologico e diciamo vedete questo libro è dedicato agli uomini e le donne che accolgono l'emergenza cioè l'emergenza è un fenomeno esistente nel mondo fisico avete l'emergenza della materia per capirci lo avete nel mondo biologico c'è l'emergenza della vita non sappiamo da dove emerga la vita è uno dei misteri mai risolti e poi avete l'emergenza nell'ambito sociale ok ecco quindi ecco è ancora prima beh è ancora prima tutto questo studio e sua auto-organizzazione nasce nell'ambito del filone sulla complessità dove sostanzialmente ecco vedete questo libro l'ho scritto nel 2005 con un mio allievo che è Luca Comello io mi ero laureato mi sono andato nell'ottanta 25 anni prima io sono un ingegnere industriale mi ero laureato a pieni voti a Padova sono andato a lei di ricerche ecco e a lei di ricerche lì ho colto che l'ingegneria era necessaria non sufficiente bisognava sapere di organizzazione management infatti ho fatto il dottorato poi mi sono poi mi sono mi sono licenziato dall'ENI che rimasero stupiti perché non c'era manco la procedura all'ENI c'era la coda per entrare io ho deciso di andare perché avevo la passione per la università e mi sono e mi sono interessato quindi di organizzazione e management però nel 2000 cioè a vent'anni dalla laurea mi sono reso conto che questo impianto l'impianto classico organizzativo quello che conoscete anche voi dentro le scuole che poi è quello terrorista fordista è un impianto è un impianto molto accentrato molto verticale è poco efficace questo è il tema è molto efficiente perché fa economia di scala ma poco efficace e quindi per farla breve mi ero licenziato dall'ingegneria quella classica per fare management e poi mi sono licenziato al management classico per abbracciare sostanzialmente il management complesso cioè sostanzialmente diciamo cercare di capire che cos'è la complessità e come applicare i principi della complessità al management bene allora scusate che io stacco la ricondizionata perché ho la tosse che mi tortura un attimo eccomi qua allora adesso faccio una piccola zoomata dentro gli ambienti di apprendimento per poi diciamo tornare sul tema organizzativo allora beh Ken Robinson penso che lo conosciate ha fatto dei TED indimenticabili è uno degli autori che mi sono studiato quando appunto nel 2008 ho fatto la commissione guardate cosa dice lui il fatto è che date le sfide che dobbiamo affrontare l'istruzione non ha bisogno di essere riformata ha bisogno di essere trasformata trasformata e la chiave di questa trasformazione non è la standardizzazione dell'istruzione ma la personalizzazione costruire il successo scoprendo i talenti di ogni bambino mettere gli studenti in un ambiente dove vogliono imparare dove possono in modo naturale scoprire le loro più vere passioni ecco in effetti se ci pensate la scuola è organizzata come una fabbrica i lotti sono le classi le sirene sono le campanelle i programmi sono di standard certo che è molto efficiente certo che è molto efficiente basta un maestro per 30 bambini però non è la scuola di Don Milani la scuola di Bambiana cioè non è una scuola personalizzata cioè questo è il tema grosso ecco allora allora qui ecco un punto centrale che voglio sostenere che l'organizzazione è un motore chiave nel cambiamento scolastico ok ecco e come vi ripeto è una variabile poco considerata anche poco amata cioè considerata molto molto meno delle delle altre variabili importanti all'ambito scolastico allora in realtà per chi ha voglia di andare a studiare sono molto noiosi tutti i rapporti OCS sull'education sono dei sono fatti più da funzionari che da gente che ispira però ci sono un sacco di dati importanti allora comunque l'organizzazione è sempre considerata chiave in molti studi vedete insieme ai processi pedagogici non è che ci stiamo dimentichando che la scuola è fatta per apprendere ecco però sostanzialmente vedete abbiamo discenti docenti contenuti e risorse questo qua è un rapporto del 2011 ma non è cambiato niente da questo punto di vista cioè questi sono i quattro aste fondamentali ecco poi attenzione qua vi do qualche qualche diciamo qualche frase presa da vari autori le scuole possono fare la differenza cioè le scuole intese come organizzazione scolastica poi l'organizzazione scolastica come risorsa questo è Butera che è un collega che studia da sempre le organizzazioni e poi vedete l'organizzazione educazione sono le variabili indipendenti dei risultati degli alunni questa è meravigliosa è meravigliosa per dirgli appunto che a volte dopo i risultati sembrano essere indipendenti da da queste variabili chiave ecco allora adesso io affronto il tema nodale perché l'autonomia scolastica che tutti invocano potete declinarla su tre livelli quella didattica quella organizzativa e quella finanziaria ok le università per fare un esempio le hanno tutte e tre ok ed è un'autonomia addirittura costituzionale ecco le scuole invece hanno un'autonomia didattica un'autonomia didattiva ma non hanno quella finanziaria se voi io ho parlato con tantissima gente la maggior parte è convinta che siccome non c'è l'autonomia finanziaria è un'autonomia falsa mutilata e che quindi non si può far niente nella sostanza ecco io quello che voglio dirvi invece è questo le università pubbliche italiane sono 62 abbiamo tutte hanno autonomia didattica organizzativa e finanziaria però funzionano bene una ventina le altre 40 non funzionano bene cioè quello che voglio dirvi è che i risultati non dipendono dalle autonomie di tipo normativo a livello didattico finanziario dipende dagli uomini e dalle donne che popolano queste università e queste organizzazioni cioè a parità di norme di soldi voi avete che una funziona e l'altra no quindi il problema è che l'autonomia è una condizione necessaria ma non è sufficiente per creare per creare risultati ed efficaci quindi qua vi scrivo l'autonomia è una condizione normativa entro cui si possono attivare i processi di cambiamento dal basso processi di emergenza che danno vita all'autoreganizzazione la regione italiana dà uno spazio parziale di economia scolastica riconoscendo le scuole quella didattica organizzativa ma non quella finanziaria ok io però sostengo che in questo spazio parziale può l'organizzazione cioè i docenti possono svolgere un'azione fortissima ok ecco questo è una tesi forte ma se avremo tempo anche durante la discussione vi posso portare testimonianze dirette ecco allora quando si cambia l'organizzazione voi avete sempre due approcci classici o top down o bottom up ok ecco allora il top down è quello che deriva dal ministero diciamo da politiche top down modelli governativi eccetera eccetera ma c'è anche un approccio bottom up che è la singola classe la singola scuola o le reti o le reti di scuola bene Carl Weick che è uno ancora vivente è un organizzativo molto noto perché ha diciamo messo in luce l'importanza dei legami deboli dei legami deboli che è tradotto nelle scuole nostre il tema delle reti che sono un tema fondamentale anzi vi pronuncio che che io sostengo che le comunità di pratica dei docenti sono uno degli asset portanti di questo approccio ecco anche la vostra esperienza di senza zaino è una prova provata che le cose migliori nascono da comunità di pratica di persone che hanno interessi personali legati alle passioni alle scelte e che scambiano idee scambiano esperienza mutano concetti eccetera eccetera ecco e qui guardate che cosa dice Veik che nell'esperienza ma non in Italia ma anche negli Stati Uniti che tutti gli approcci top down delle riforme dall'alto hanno sempre un successo limitato e che alla fine qual è il tema vero che dall'alto si creano i contesti di tipo normativo o che garantiscono delle risorse ma poi la declinazione effettiva la fanno le scuole e chi dentro le scuole il dirigente scolastico in primis il suo staff ma anche tutti i docenti e anche tutto il personale tecnico-amministrativo allora adesso se mi consentite una breve una breve diciamo descrizione di di un principio è il principio fondamentale delle scienze della complessità e il principio dell'emergenza dal basso questo principio lo ha messo a punto Anderson che è un Nobel per la fisica che sostanzialmente nel 72 scrive questo articolo che è stato un po' il manifesto delle scienze complessità che dice moris differente cioè il risultato dell'interazione tra le parti è molto più della loro e della loro somma adesso non c'è il tempo per andare a fondo però lui sostiene appunto che il Big Ben è un esempio di emergenza della materia e che la stessa emergenza della vita è un altro mistero da cui non abbiamo dato nessuna risposta di tipo scientifico ma vi direi anche di più cioè l'autocoscienza la nostra autocoscienza è un'emergenza dell'interazione di neuroni che non abbiamo ancora capito cioè non abbiamo capito da dove emerge la materia non abbiamo capito da dove emerge della vita non abbiamo capito nemmeno come da cellule viventi possono nascere esseri autoconsapevoli quindi quello che voglio dirvi è che l'emergenza come dice lui è il mistero più affascinante della scienza ok ecco nel mondo fisico faccio proprio un passaggio brevissimo prendete l'acqua H2O a temperatura ambiente è liquida ma a temperatura ambienti i suoi componenti sono gassosi cioè la proprietà liquida non è la proprietà degli elementi ma della loro interazione quindi in pratica la fisica prende atto che non è andare a separare perché il vecchio metodo cartesiano è di separare in parti andare a capire come funziona la parte ritornare in su e capire come funziona il fenomeno questo funziona in sistemi in cui le interazioni tra le parti sono nulle trascurabili quando invece le interazioni sono molto potenti ebbè il caro vecchio approccio cartesiano non funziona più e quindi quindi dobbiamo sostanzialmente applicare un approccio sistemico che oltre che alle variabili la x la y la z consideri le relazioni che sono le famose equazioni di sistema quindi l'emergenza esiste nel mondo fisico ma esiste anche in quello biologico se voi se voi vi domandate ma perché gli uccelli volano in stormo ecco allora chi li ha studiati Strogatz un matematico americano ha scoperto che esistono quattro microregole la prima i singoli sono consapevoli di chi sta più vicino 7-8 uccelli sono consapevoli soltanto di chi sta in fianco la vanno in una direzione media e la terza regola è che stanno nel caso degli uccelli a 3-4 volte il loro colpo nel caso dei pesci a soltanto una lunghezza e la quarta regola quando arriva un predatore si sa di chi può benissimo queste quattro microregole che sono cablate nel DNA degli uccelli consentono il volo in stormo quindi qual è l'attesi che gli stormi emergono dall'applicazione di quattro microregole e che sono finalizzati a cosa la domanda è ma perché gli uccelli stanno in stormo o i banchi lavorano in pesci perché sostanzialmente perché sostanzialmente hanno più probabilità di sopravvivere cioè quando arriva il falco pellegrino ok chi lo vede per primo applica la regola quattro cioè si salvi chi può qui discartano gli altri applicano la regola due voglio andare nella direzione media e quindi sostanzialmente l'applicazione delle microregole aumenta le proprietà di sopravvivenza cioè in grande sintesi dalle regole semplici nascono comportamenti complessi che è il volo in stormo da cui nasce maggiore sopravvivenza quindi la complessità viene generata dalle specie per aumentare la sopravvivenza per cui la complessità aumenta sempre perché è generata pensate quando un'azienda lancia un nuovo prodotto crea complessità nel mercato quando un'università lancia un nuovo corso di laurea crea maggiore complessità nella fatta didattica e così via cioè sostanzialmente la complessità aumenta sempre generata da tutte le specie il volo in stormo è un esempio di complessità generata da una specie ma vi faccio un altro esempio se voi passeggiate lungo il fiume di sera e c'è il tramonto contro luce potreste vedere i moscerini i moscerini non hanno un volo lineare semplice sono mossi da tarantola volano a zig zag in maniera completamente discontinua perché perché in maniera provocatoria qua vi scrivo la rana conosce la trigonometria la rana cosa farebbe farebbe sostanzialmente due calcoli e se li mangerebbe tutti quindi come il volo in stormo è generato dagli uccelli per sopravvivere ai falchi pellegrini così il volo discontinuo dei moscerini è fatto per sopravvivere ai predatori poi in questa battaglia la rana sviluppa una 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 saliva vistiosa per aumentare la probabilità e dopo ad un certo punto le mosche ad esempio hanno sviluppato degli enzimi che addirittura sciolgono e così via cioè nella battaglia per la sopravvivenza le spese aumentano la complessità e chi reagisce aumenta la complessità a sua volta quindi abbiamo già capito che la complessità ha due lati un lato chiaro e un lato oscuro cosa voglio dire voglio dire che quando viene generata come dagli uccelli è amica invece i falchi che la subiscono diciamo è come sta nemica e quindi devono adattarsi quindi avete un lato chiaro i moscerini un lato oscuro che è quello delle rame e quindi voi vedete che gli uova sono agenti di complessità cioè la creano ma sono anche agenti nella complessità cioè la subiscono quindi dove voglio arrivare voglio arrivare qua che noi abbiamo sostanzialmente un lato chiaro della complessità quando questa viene generata per il principio di azione complessità amica e quindi sono soggetti della complessità oppure la complessità può essere subita perché bisogna adattarsi bisogna reagire è complessità nemica e siamo agenti nella complessità ok ecco adesso un'entrazoommenta nel mondo sociale allora questo libro del 2005 guarda a caso lo stesso anno in cui io facevo il primo libro sulla complessità questo tra l'altro guardate è proprio un docente di innovazione educativa e lui sostanzialmente spiega come l'emergenza nel mondo sociale esiste ed è fortissima vedete avete l'individuo no le sue intenzioni le sue memorie le sue personalità i suoi processi cognitivi poi avete l'interazione quindi voi avete le interazioni simboliche le collaborazioni delle negoziazioni poi vedete avete un terzo livello che invece sono i contesti i frame di interazione le strutture di partecipazione i ruoli gli status eccetera poi avete un quarto livello che sono i gruppi gli slang le sottoculture le routine le pratiche condivise la memoria collettiva e poi avete un ultimo livello vedete che sono i testi scritti le procedure le lesi le regole le infrastrutture eccetera eccetera quindi in pratica siamo immersi in sistemi complessi di ambito fisico di ambito biologico e di ambito sociale tra l'altro l'emergenza è molto bella anche per chi come noi vive dentro le discipline allora il tema delle discipline è un tema diciamo enorme anche sul piano educativo dentro le scuole perché sono dei silos che rendono rigidissime le organizzazioni scolastiche e voi sapete nella discussione voi avete due grandi tesi c'è chi sostiene che le discipline hanno un senso e c'è invece chi dice che sono una convenzione e lo dicono fior di nobili il fior di nobel della fisica allora in questo articolo che vi ho citato Anderson dice che l'emergenza spiega le discipline io ve lo racconto perché è molto interessante e anche convincente cioè lui dice se vuoi studiare protoni elettroni devi usare la fisica se invece devi studiare ciò che mezzi elementari cioè altri molecoli devi usare la chimica se invece vuoi studiare ad esempio le biomolecole devi usare la biologia se vuoi studiare sostanzialmente gli organi devi usare la medicina e poi se vuoi studiare la coscienza individuale devi usare la psicologia la pedagogia l'antropologia e poi ancora più in su ti serve la sociologia la filosofia l'economia e qual è la tesi finale che le scienze sono interconnesse in una logica di emergenza dal basso per cui dove termina la professione di una disciplina inizia la comprensione di un'altra sono nodi di una rete con relazioni multiple cioè in pratica per capirci se voi dovete definire sempre il piano su cui affrontate il tema dopodiché voi potete scendere in una logica analitica o potete salire in logica sintetica e quindi in pratica le discipline affrontano su piani diversi il fenomeno e quindi qui io tra l'altro questa discussione è ferocissima dentro le scuole che all'inizio non capivo le differenze tra multidisciplinare interdisciplinare transdisciplinare io qua vi propongo una cosa molto semplice cioè nelle discipline tra le discipline e oltre discipline questo è additivo il principio sinergico dell'inter emergente qua c'è il tema dell'emergenza nel trans e quindi il processo portante è una somma di discipline è un'integrazione invece una sintesi costruttiva qui la metafora grafica vedete queste sono due cerchi distinte quindi multidisciplinare vuol dire due discipline che concorrono l'intersezione invece è l'inter mentre attenzione qui avete vedete che avete la generazione della terza dimensione e quindi avete una sfera ok ecco poi la metafora alimentare 2 più 2 fa 4 2 più 2 fa 5 2 più 2 fa giallo ecco cioè c'è una dimensione nuova è l'emergenza che crea una proprietà non prevista e qui vi metto la metafora alimentare l'insalata avete una bella separazione tra pomodori e lattuga nella fonduta invece si è fuso qualcosa nella torta voi non trovate più nella farina nelle uova eccetera allora ritorniamo sul punto nodale dentro le scuole avete due grandi processi quello di insegnamento e di apprendimento e sono due circoli che sono ovviamente autorinforzanti i ragazzi imparano e gli insegnanti lasciano il segno come dice la parola ecco qui adesso nel testo abbiamo fatto delle diciamo abbiamo introdotto delle semplici matrici tanto per capire di cosa parliamo perché molte volte c'è una confusione nei termini non banali come quella precedente tra multidisciplinare inter e transdisciplinare qui vi ho messo a detta gli obiettivi uno è costruire la conoscenza l'altro è condividerla le leve qui avete capacità di combinazione qui invece capacità relazionali qui c'è il tema la relazione fondamentale l'internazionale conoscenza esplicita tacita mentre i docenti hanno quella inversa cioè dalla ristanalizzazione da tacita esplicita questo è top down questo bottonato ok poi altra cosa che dobbiamo ben aver chiaro la differenza tra perdimento standard quello individuale quello personalizzato anche qua non è stato facile fare chiarezza però io ve le propongo per eventuali diciamo riflessioni però ecco e poi anche questa che è famosissima la differenza tra formale non formale informale io sono maniacale delle figure perché il visual thinking è una cosa seria è chiaro che una matrice è un modello e quindi semplifica però a volte per capire è meglio è meglio sostanzialmente semplificare qui avete vedete l'informale il non formale e l'informale che sostanzialmente si differenzia non solo per la struttura organizzativa previsto o meno ma anche sugli obiettivi intenzionali dei docenti bene allora adesso vi faccio un'altra provocazione studiando education perché io ovviamente education ma la sono studiata appunto in occasione di questa esperienza quindi sono andato in giro per i TED a studiare uno degli incontri più belli è stato con Sugata Mitri chi è Sugata Mitri Sugata Mitri è un fisico indiano il quale classe del 52 il quale ha fatto un'esperienza meravigliosa siccome in India ci sono un sacco di bambini che non vanno a scuola ecco lui cosa ha fatto ha preso ha preso dei computer e li ha messi a muro dei touch screen e li ha lasciati là ok con accesso a internet che cosa è successo è successo che i bambini andavano lì a giocare sostanzialmente a giocare però in maniera cooperativa e quindi per farla breve lui ha messo in piedi un sistema diffuso di cooperative learning ok ecco lui sostanzialmente ha fatto ha convinto il ministero dell'educazione indiano di fare queste casette il giro per gli sport più sperduti dell'India ecco e pensate che quando lui raccontava queste robe non gli accettavano neanche i paper che scriveva nelle riviste diciamo internazionali di education perché insomma era considerata una cosa un po' naif ecco in realtà poi gli hanno riconosciuto il Tad Price e la tesi fondamentale sua è questa che il cambiamento a partire educativo sarà la conversione del processo in un sistema auto-organizzato e questo lo diceva nel 2000 ecco io mi sono mi sono ho cominciato ad occuparmi di education nel 2008 ecco e alla fine la sua tesi è questa che l'educazione è un sistema vedete auto-organizzato dove l'apprendimento ha un fenomeno emergente quindi quando ho incontrato Sugata Mit ho detto beh ma allora c'è qualcuno che prima di me ha già fatto questo percorso e l'ha già chiarito bene lui diciamo non soltanto ha avuto successo nel TED poi lo hanno chiamato in Inghilterra poi l'ha chiamato anche in Italia lui è stato a Torino c'è un TED bellissimo dove lui fa vedere una classe elementare di bambini di quinta che non conoscono la la il teorema di Pitagora gli danno il problema loro diciamo cominciano a navigare e dopo due ore riescono a capire come risolvere il problema e calcolare l'ipotenusa ecco questo voglio dirvi che è molto intrigante come esperienza e e questo sostanzialmente sono gli ambienti che poi lui ha creato e hanno fatto degli esperimenti anche in Scozia con le nonne nel cloud che era pre-covid questa roba qui però la cosa interessante è questa vedete alla fine hanno riprodotto il computer con la panchetta vedete che alla fine si mettono più ragazzi e quando non riesco a trovare il problema c'è la nonna nel cloud che che risponde ecco perché ve ne parlo perché il problema della costruzione della conoscenza è un problema di tutte le organizzazioni anche delle imprese ecco questo collega che vi presento che è ancora vivente è un prof di origine giapponese ed è uno dei più citati perché lui ha proposto un modello di costruzione della conoscenza che è questo vedete in pratica voi avete conoscenza tacita conoscenza esplicita poi avete gli individui i gruppi le organizzazioni e le interorganizzazioni ok ecco come funziona il meccanismo in maniera molto semplice cioè che in pratica la conoscenza tacita viene socializzata dalle persone poi avete il processo che sostanzialmente dove la tacita diventa esplicita ok poi avete che esplicita e su esplicita avete la combinazione e poi avete l'ultimo che invece è l'internalizzazione scusate ecco quindi in pratica non è che a dire che la costruzione della conoscenza è un fenomeno molto articolato che prevede quattro fasi socializzazione esternalizzazione combinazione internalizzazione lui ovviamente c'è scritto dei libri sopra io qui in maniera eroica guardate il 91 tra l'altro quindi è una roba è una roba antica ma come dice il proverbio Galina Vecchia fa buon brodo ecco e questa è sostanzialmente vedete tacita su tacita la socializzazione tacita su esplicita l'esternalizzazione esplicita su esplicita la combinazione esplicita tacita l'internalizzazione ecco quello che voglio dirvi è questo che nei fenomeni di apprendimento il tema sociale e il tema dell'esplicitazione dove qua c'è di mezzo ovviamente il docente sono centrali sono centrali cioè l'apprendimento è un fenomeno complesso plurifase dove c'è ovviamente un ruolo anche importante non solo del docente ma anche dell'interazione tra ragazzi bene adesso vi chiedo un altro salto logico e voglio parlarvi di un secondo principio della complessità che è il principio del loro del caos questo principio è un principio introdotto da un fisico al Santa Fe dove si studia complessità io ci sono stato conosciuto molti colleghi attenzione che la complessità nasce soprattutto dai fisici nasce a Santa Fe come spin off dei laboratori di Los Alamos dove hanno fatto le famose due bombe atomiche oggi ci lavorano 12.000 tra scienziati ingegneri chimici fisici eccetera hanno fatto in fianco un institute che è proprio sulle scienze della complessità in pratica qual è il tema il tema è che troppo ordine morte per fossilizzazione troppo disordine morte per disintegrazione la vita è sempre in una zona intermedia tra ordine e disordine questo è l'orlo del caos è anche l'area del cambiamento dell'innovazione della vita Schumpeter parlava di distruzione creativa ok e quindi questo principio ve ne parlo perché poi voglio collegarlo delle riflessioni di diciamo esperti di education sul tema del disordine dell'ordine ecco la metafora molto bella è quella del surfista perché i surfisti stanno sull'onda sulla cresta dell'onda perché lì c'è il punto di massima energia ok quindi in pratica vedete il caos è a destra dell'onda a monte abbiamo l'ordine mentre diciamo la complessità è diciamo l'area della vita è il punto sostanzialmente diciamo dove i surfisti vogliono mettersi perché lì ecco poi la metafora molto bella perché ogni onda non è mai per sempre quindi i bravi surfisti prima devono far fatica ad allenarsi poi devono raggiungere l'onda poi devono imparare a sedere sull'onda e poi quando l'onda scema devono guardarsi intorno e risalire sulla successiva cioè in pratica che cosa dice Paul Valéry guarda che era un letterato diceva due pericoli minacce costantemente il mondo troppo ordine o troppo disordine ecco questo qui me l'ha fatta questa femminile me l'ha fatta un mio collega un mio collega architetto quello mino lì in fran che siamo noi che abbiamo un viotto allo stretto e dobbiamo sempre col bilanciere vedete stare in equilibrio tra ordine e tra ordine e disordine ecco e la cosa interessante è che quindi il disordine è necessario per la creazione e dobbiamo accettare i paradossi e cioè la presenza di concetti coni cioè in pratica anche questo questo è la mia è un formatore della cultura dell'ora quella dell'ed cioè o per dirla con Borges quando trovi un bivio in boccola che questo è bellissimo perché poi nella ricerca scientifica noi abbiamo veramente delle comunità scientifiche che vanno a destra e a destra va a sinistra perché questo bisogna esplorare tutte le cioè da soli non si può fare ma insieme sì dobbiamo avere la cultura ora perché vi parlo di queste cose della complessità perché la scuola è un sistema complesso è un sistema complesso e quindi qua vedete vi scrivo gli elementi che la costituiscono persone unità attori esterne risorse eventi attività c'è interagiscono e hanno tutta la loro identità e la loro separazione quindi sono molte parti che hanno molte parti c'è una varietà c'è una variabilità c'è un'interdipendenza fortissima ecco il legame che lo unisce a volte è saltuare il ciscoscritto poco rilevanti ma con scarsi effetti esimproci e quindi qua c'è il tema di VAL cioè noi abbiamo molte molte molti elementi che sono collegati però in maniera in maniera debole ma per questo non poco significativa qua io vi faccio un elenco dei legami deboli insegnanti e studenti insegnanti e genitori insegnanti e dirigenti insegnanti e insegnanti studenti e studenti insegnanti e personale amministrativo e tecnico e mezzi insomma quello che voglio dirvi è che abbiamo una grande enormità di legami deboli dentro le scuole che sono sistemi complessi allora qui vi voglio far citare vi voglio citare perché poi ho trovato per fortuna delle persone che si occupano di education e che hanno una visione diciamo della complessità e ora vi cito questo Mario Comoglio che è docente alla Salesiana di Roma che dice vedete che c'è la natura la qualità dei contenuti da apprendere no l'eternalità delle persone che sono tutte diverse ovviamente il tempo e il contesto eh la non linearità dei processi sia di insegnamento che di apprendimento ok questo lo trovate in questo libro e quindi qual è la tesi sua che la scuola vive tra ordine e disordine guardate vi è interdipendenza tra la programmazione i curricoli i processi gli insegnamenti gli esiti la natura all'uno delle variabili sono difficili le diagnosi sono incerte e quindi qua lui scrive la scuola è un' realtà dinamica adattiva che vive al limite tra ordine e disordine e compiere graviamente qui capite che mi sono tra virgolette un po' commosso perché quando ho detto vabbè ma allora quello che ho studiato in ambito diciamo management organizzazione complessità guarda caso per fortuna qualcuno l'ha già studiato e l'ha già detto quindi nella scuola convivono comunità di docenti di studenti genitori dirigenze con obiettivi a volte a volte convergenti a volte divergenti e quindi vedete le loro vite non sono garantite da leggi da compiti ruoli di razza gerarchica cioè quello che voglio dire è che tutto questo ammasso di cose non possono essere gestite da norme da regole cioè che ci sono però non sono non sono in credo di gestire questa cosa quindi vedete lui dice la ricerca delle risposte è semplice non sembra adeguarsi alla scuola ma deriva dall'impostazione razionalistica della scuola che posto la linearità e la priorità del mondo con conseguente ferite gestione di leadership accattivanti ma non adatte un mondo disordinato ha bisogno di questo attenzione è sergiovanni che è un docente purtroppo americano morto anche lui diciamo prematuramente e alla fine siccome la mente la scuola è turbolenta la pratica è indeterminata per la maggior parte dei problemi non ci sono soluzioni tecniche razionali preconfezionate ecco per cui l'idea che deve fare al ministero è proprio infondata cioè questo è una cosa dobbiamo prendere consapevolezza che siamo in un sistema complesso e per dirla tutta che differenza c'è tra un sistema complesso e un sistema diciamo semplice o complicato che nei sistemi semplici voi il modello lo conoscete ex ante e lo utilizzate per ingabbiare il fenomeno nei fenomeni complessi il fenomeno cioè il modello è ricostruibile ex post mi spiego se voi volete andare da Venezia a Roma in aereo prendete un bel motore a reazione la rotta è tracciata il modello è dato e l'aereo fa quella rotta lì ma se ci andate in aliante la rotta la rotta la potete definire ex post ed è funzione del vento delle sette del pilota quindi la differenza sostanziale tra un sistema diciamo complicato semplice o complicato o complesso è che il modello lo definite ex ante nel primo caso e lo ricostruiste ex post quindi quello che voglio dire è che voi le soluzioni nella scuola cioè le rotte nella scuola le fate durante il fenomeno stesso non potete pensare di definire ex ante come fare il modello voi dovete entrare cioè dovete volare in funzione del vento cioè dei ragazzi che avete del contesto che avete e dovete fare delle decisioni che sono autonome da pilota allora guardate sto Sergio Vanni che ha fatto sto libro che è un librone e alla fine la cosa che mi ha colpito è questa che lui dice che lui parla dei dirigenti lui dice che avete i mistici gli ordinetti e i disordinetti questa è bellissima io ve la porto allora qual è la differenza lui dice che hanno idee molto diverse sulla relazione tra la pratica e la teoria cioè in pratica per i mistici non c'è alcuna relazione tra la teoria ad esempio educativa e la pressa educativa per gli ordinati invece avete la prevalenza della teoria sulla pratica mentre mentre per i disordinati e qui c'è l'intrigo le conoscenze sono subordinate alla pratica cioè più importante la pratica la teoria viene dopo allora io vi dico che questo è il punto intrigante che servono professori docenti disordinati e questa ovviamente è una provocazione ok ma è ovviamente più realistica nel gestire è il caos che il caos è la rappresentazione tipica di una scuola io ho un mio carissimo amico che ha fatto il prof per 40 anni e poi anche ha fatto il dirigente di un 35 ha scritto un libro che me l'ha fatto anche leggere dove succedevano delle cose totalmente imprevedibili e impreviste quindi voi comunque avete esperienze le sapete più di me allora ecco allora adesso questa questione che ho trovato in San Giovanni in realtà io l'avevo già trovata ma da un'altra parte e l'avevo trovata sostanzialmente in questo libro dell'83 che è di Sean allora questo signore Sean è praticamente un filosofo che lavorava però all'MIT e si occupava di pianificazione urbana di tutta altra roba però questo libro secondo me è molto bello perché dice come i professionisti pensano nell'azione ecco allora il paradigma entro cui i disordinati operano è la pratica riflessiva di Sean ok ecco e quindi dove voglio arrivare questo qui è Sean ve l'ho detto è un prof che però sostanzialmente in questo libro secondo me spiega perché i professionisti generano conoscenza perché uno pensa che la conoscenza si è generata all'università tramite la ricerca invece molta conoscenza è generata dai professionisti nella pratica e i prof sono dei professionisti di educazione questa è la tesi centrale per cui tanto per dirvi io non sono mai stato convinto di fare i centri di ricerca didattica perché la ricerca in didattica si fa sul campo i professori sono contestualmente tutti ricercatori nella didattica perché fanno esperienza continua allora la conoscenza professionale è diversa da quella scientifica e si crea nell'uso man mano che i professionisti affrontano attenzione i problemi mal definiti unici e in continuo cambiamento pensate anche i medici o pensate anche a a qualsiasi tipo di lavoro cioè chi lavora ha problemi sempre diversi sempre unici e sempre mutevoli e quindi allora guardate la riflessione sul conoscere nell'azione va insieme con la riflessione sulle cose che si hanno sotto mano c'è un fenomeno in qualche modo problematico inquietante o interessante che l'individuo sta cercando di affrontare qua vi leggo i passaggi suoi mentre cerca di dargli senso e gli riflette anche sulle comprensioni che sono implicite nella sua azione comprensioni che fa emergere critiche le ristrutture e incorporano nell'azione successiva e questo processo complessivo di riflessione nell'azione che è centrale nell'arte attraverso la quale i professionisti affrontano le situazioni caratterizzate da incertezza instabilità unicità e conflitti di valori secondo Sean la riflessione nel corso dell'azione implica far affiorare sul momento criticare ristrutturare e valutare le compressioni intuitive sui fenomeni sperimentati spesso prende la forma di una nuova conversazione riflessiva con la situazione lui l'ha fatto parlando di pianificatori territoriali ecco ma questo vale in tutte le professioni infatti l'ho trovato in un altro autore che è Tiller americano che dice che la pratica di un professionista evolve in modo informale e generalmente le procedure professionali non derivo da progetti sistematici fondati in struttura della ricerca la pratica professionale si è per lo più sviluppata attraverso tentativi ed errori e sforzi intuitivi la pratica professionale di insegnamento è soprattutto il prodotto dell'esperienza dei professionisti in modo particolare quelli che sono più creativi inventivi e capaci di osservazione rispetto alla media bene allora adesso torno a bomba e alla scuola allora tenete presente che Von Foster che è uno dei padri della cibernetica diceva che avete le macchine banali e le macchine non banali le macchine banali è stesso input stesso output ok sono indipendenti dalla storia e sono prevedibili ecco mentre le macchine non banali è stesso input e output sempre diverso ok immaginate anche una catena in supermercati una stessa procedura applicata sempre in maniera diversa perché perché sono diverse le persone è diversa la storia è diversa il sistema di valori quindi tutti i sistemi sociali anche le scuole sono macchine non banali non banali e questo è lo schema con cui rappresentiamo l'autororganizzazione voi avete le interazioni tra le parti che in questo caso le parti sono studenti docenti tecnici contesti eccetera e dall'interazione nasce vedete un sistema che è autorganizzato perché alla fine volete o non avete ogni scuola comunque è autorganizzata anche se non lo sa una scuola comunque è aperta e poi evolve con l'ambiente esterno ok ecco allora Anderson cosa dice che l'autororganizzazione non ha luogo se non abbiamo flusso continuo di energia cioè in pratica se voi mettete dieci persone insieme in una scuola non è che si l'autororganizzano vanno in anarchia che cosa ci vuole ci vuole l'energia di uno che si prenda la guida del gruppo ok ecco perché questo dobbiamo essere molto onesti l'autororganizzazione non è alternativa alla gerarchia coesiste ok coesiste ecco se voi però avete in mente solo la gerarchia non funziona niente se avete attenzione i gruppi auto-organizzati migliori addirittura nel punto finale il capo addirittura si sfila e il gruppo e gli auto-organizzati vanno da sé ecco però la cosa interessante è questa che l'auto-organizzazione l'auto-organizzazione non significa una perdita di potere qua è un altro grosso discorso perché i sistemi auto-organizzati sono temuti dai dei CEO delle imprese perché si pensa che se il potere va in periferia si perda al centro ma questa è un'idea sbagliata perché il potere non è una variabile conservativa come la materia e l'energia il potere è una variabile generativa è come la conoscenza cioè può essere duplicata cioè voi potete raddoppiare il potere decisionale della periferia e potete raddoppiare il potere già nel centro cioè sostanzialmente per capirci se voi volete avere come in Germania uno stato federale con dei land che hanno molto potere dovete rafforzare i poteri centrali cioè i poteri centrali e i poteri periferi sono entrambi aumentati cioè il potere può essere raddoppiato qua ve lo scrivo questo poi non è fra il mio sacco questo qua è un ingegnere come me sistemista che l'ha scritto nel 99 dice il potere come la conoscenza può essere duplicato l'empowerment non è applicazione di potere è duplicazione di potere cioè in pratica se il dirigente decide di far decidere ai docenti non è che lui perda potere anzi lo aumenta io lo posso testimoniare io ho fatto lettore per sei anni io alla fine questi questi modelli li ho praticati ho dato potere ai dipartimenti ho dato potere ai tecni amministrativi alla fine il mio potere è aumentato è aumentata la mia reputazione è aumentata la mia diciamo la fiducia nel sottoscritto quindi alla fine abbiamo portato l'organizzazione a molte menti questa è la grossa perché in genere se noi abbiamo in mente una scuola che funziona con il dirigente scolastico o il suo staff è a poche menti e poche menti possono fare poche cose quindi il problema vero è fare l'engagement di tutti ed è avere un sistema a molte menti allora che cosa non è l'autorganizzazione non è anarchia abbiamo ad esempio avete le micro regole per capirsi non è la self-air ognuno fa quello che vuole assolutamente e non è nemmeno parte di controllo è se il controllo aumenta perché viene fatto in periferia e non è un semplice fai da te è una logica diversa di organizzazione tenete presente che la leadership quella vera non è una nomination che viene dal concorso che uno vince e quindi gli arriva dal ministero che lui è dirigente e quindi è diventato leader non è vero perché la leadership non è una nomination è un election tenetelo ben presente e io ve lo dico all'università i rettori vengono eletti quando ne ho parlato perché non lo facciamo anche nelle scuole invece che mettere il dirigente che ha visto un concorso che a volte all'infanzia non risolta e quindi i problemi sono enormi dentro una organizzazione con un capo che è caratteriale e mi hanno detto eh no è un problema fare l'esere i presidi avremo problemi con i sindacati quindi non se ne parla però attenzione non è vero che il leader è tale perché è stato nominato o dal ministero o dal concorso il vero leader viene eletto viene scelto viene riconosciuto dalla base ed è per quello che un professore che si impegna a scuola diventa il vero leader della scuola non è vero che il leader è il dirigente il vero leader è chi viene riconosciuto dei propri colleghi qui vi ho fatto in maniera eroica cioè sulla leader ci sono tonnellate di libri io qui faccio una roba eroica quattro classi allora il leader è passivo il dirigente ha vinto il concorso per caso è anche caratteriale il disastro il dirigente non è un leader i docenti non si sentono subordinati e qui è il casino totale poi il capo c'è è autocentrato gli piace comandare qui ci sono dei modelli militari diciamo che se avete visto l'ufficiale gentiluomo capite poi invece avete il caso vedete illuminato il capo è illuminato conduce a diciamo a meta il gruppo e poi invece qui avete la parte più interessante dove il leader è un costruttore di contesti dove a regime sono tutti self leader ok ecco e qui infatti vedete che non se ne passa da una mente a molte menti ecco e qui passate dal controllo al presidio vedete ecco perché uno uno dei grandi uno dei grandi diciamo blef è che il preside pianificare e controllare non è vero il preside deve creare un contesto dove a regime tutti i docenti si sentono self leader della loro classe della loro rete di scuole delle loro interazioni e quindi quello che voglio dirvi è che ecco e qual è la tesi che aumentare la complessità dovete andare su sistemi sempre diciamo più auto organizzati dove attenzione non mi sto dicendo che non ci sia il capo non ci sia il capo allora adesso vado in fretta perché mi sto allargando di tempo ma lo sapete i professori sono come il gas si spandano sempre io adesso cerco in pochi minuti di andare alle conclusioni ecco vi ho parlato che l'organizzazione è importante quindi vanno sviluppate delle capability ecco qui la questione è questa che voi avete diciamo le capability possono essere dell'individuo dell'organizzazione possono essere di tipo tecnico di tipo sociale no quindi per capire la competenza ad esempio in una disciplina di un prof è questo quadrante qua ok invece un prof che è anche capace di leadership ha una tecnologia sociale per capirci ecco poi avete diciamo delle core competence invece che sono organizzative no e invece di quelle sociali quindi quello che voglio dirvi è questo quelle più importanti sono quelle in basso a destra cioè le organizzazioni per funzionare hanno bisogno di una diffusa capability in tutti i suoi componenti e quali sono queste capability io qui adesso ve le faccio vedere la riconfigurazione cioè la capacità di riconfigurare le strutture in maniera organica ok quindi le gerarchie sostanzialmente di organigramma le cose più importanti di una organizzazione sono fuori dall'organigramma sono tutti quanti l'organigramma è lo scheletro la cosa più importante invece è tutto il sistema nervoso poi c'è il tema della ridondanza che è un tema importante cioè in pratica è ridondanza di tipo cognitivo di tipo relazionale di tipo ecco quindi la ridondanza è un fatto centrale non è inefficienza se tu non hai ridondanza non puoi assolutamente affrontare la complessità ok ecco poi c'è il tema dell'interconnessione vedete e poi c'è il tema della condivisione ecco qui io vi ho scritto che quando siamo capaci di riconfigurare sono modelli olonici adesso non c'è tempo però ci sono fatte tecniche la ridondanza l'orografico l'interconnessione del circolare la condivisione del cellulare cioè quello che voglio dirvi è che dobbiamo andare su strutture di tipo organico con competenze più integrate con grande decentramento decisionale e quello che comanda è che non sono le procedure ma è l'adattamento reciproco vi dico solo un esempio vi faccio tanto io quando sono in dato rettore ho chiesto all'unificio legale quanti regolamenti avevano avevamo circa 100 gli ho chiesto quanti sono obbligatori 50 bene ho dato il premio per togliere i 50 non obbligatori non se ne è accorto nessuno le cose sono andate meglio ok questo per dirvi che il coordinamento vero l'ho fatto sulla visione condivisa e sul sistema di valori condivisi ecco allora chi sono gli attori gli attori sono tanti avete studenti genitori dipartimenti e gruppi le reti i docenti le reti cioè quello che voglio dirvi è che c'è tanta roba dentro una scuola avete molti attori studenti genitori docenti avete vedete ambienti intrascolastici e etrascolastici avete attività curriculari avete vedete il tema dell'azione scolastica ma anche il tema di insegno d'apprendimento all'orientamento eccetera eccetera quello che voglio dirvi è che sono tante le cose su cui lavorare ecco qui estendendo la matrice di prima nella scuola mi sono messo vedete dirigente la surfer dirigente comandante dirigente conduttore dirigente costruttore allora avere il conduttore è già una benedizione ma alla fine io dico guardate che la cosa migliore è avere un costruttore un costruttore quindi qui abbiamo detto scuole autorganizzate scuole gerarchiche illuminate scuole gerarchiche autoritarie scuole la surfer ok ecco vado avanti ecco i modelli organizzati coesistono cioè in pratica quello che voglio dirvi è che in sistemi semplici la gerarchia può funzionare con modelli illuminati di conduzione ma se avete sistemi complessi la scuola lo è non c'è niente da fare dobbiamo andare su modelli autorganizzati con stili di costruzione con persone che sono all'origine self leader e con attitudini interpartitoriali cioè non si tratta di fare il problema si tratta di generare un ambiente d'apprendimento allora queste cose qua io ve le scrivo e cioè dobbiamo andare su management da molte metti con capabilità organizzativi importanti e pratiche manageriali tipiche dell'autorganizzazione quindi gerarchia non sono in alternativa ma coesistono nel tempo e nello spazio ok e quindi se avete bassa complessità va bene avere un bravo dirigente ma se la costa è elevata sto pensando a tutte le esperienze al sud nei quartieri più degradati eccetera e quindi qua vi dico appunto che per andare in alta complessità dovete andare in modelli autorganizzati ecco e qua vi siete i gesuiti che mi sono studiato un libro sui loro modelli organizzativi perché sono estremamente estremamente intriganti loro che avevano puntato tutto sull'autorganizzazione nel senso che mandavano i loro adetti a farsi crocefiggere in Giappone a morire in Sud America avevano deciso che prendevano solo gli aptissimi cioè alla fine siccome dovevano mandarli da soli dovevano sapere non soltanto le lingue e la teologia ma dovevano allangersi e siccome questi talenti cioè ci vuole preparazione ma ci vuole anche talento in ingresso alla fine hanno alzato l'asticella solo aptissimi ok ecco e tra l'altro pronti al Magis come che era il loro motto allora siamo verso la fine la ricerca ecco noi abbiamo studiato 14 scuole abbiamo creato The Mer che ha fatto un lavoro enorme ha operazionalizzato che cos'è l'ostevo d'apprendimento a non vi tedio abbiamo creato una quarantina di item di misuratori e alla fine abbiamo fatto sia diciamo un metodo un metodo diciamo in parte quantitativo ma anche abbiamo fatto delle interviste alla fine questo è il risultato cioè in pratica che l'innovatività dell'ambiente di apprendimento è molto correlato con le capability della scuola cioè in pratica se i docenti hanno capability di autoorganizzazione guarda che l'ambiente di apprendimento è diciamo è migliore vado verso le conclusioni che cosa cambiano le organizzazioni allora guardate il singolo il motore del cambiamento singolo è il sogno l'organizzazione della visione della società è il mito mi spiego è l'immaginario dell'intimo dell'organizzazione del sociale è l'immaginario esplorativo esplicativo eccetera eccetera cioè in pratica quello che voglio dirvi è questo che il sogno è il motore del cambiamento dell'individuo un ragazzo è il sogno di fare il pilota la Ferrari e un ragazzo di fare la ballerina la scala ok ecco la visione invece è l'immaginario dell'organizzazione ma che cosa vuole essere ad esempio una scuola il mito invece addirittura nel sociale cioè voi avete il mito della terra promessa il mito della rivoluzione l'ottobre avete il mito della conquista del far west cioè i miti mobilitano le masse le visioni mobilitano l'organizzazione i sogni strettamente diciamo agitano le persone qua vi faccio vedere soltanto questo Sandburg dice non succede nulla se non c'è prima un sogno guardate Kennedy dice abbiamo bisogno di uomini che possono essere cose che non sono mai esistite e lui si è inventato la conquista dello spazio perché lui la conquista dell'America ormai era fatta e si è inventata la conquista dello spazio e poi guardate Luther King che disse I have a dream non disse ho un piano quinquennale agli afroamericani non gli ha detto che aveva un piano quinquennale gli ha detto I have a dream allora andiamo nella scuola allora qua io vi dico che nella scuola tutte le resistenze sia dal ministero che dall'ultimo dell'ultimo dei moicheni che non vuole sapere di cambiare non cambierà se non c'è un'anima un'ispirazione un dream una passione che coinvolga tutti i robot nel gusto della scoperta vedete nel dare significato ok quando io devo motivare 1200 persone a 1200 euro o voi trovate delle motivazioni personali forti o voi con il sistema premio sanzione andate a nessuna parte è irrilevante o poi qual è il tema che bisogna lavorare sull'intra imprenditorialità i docenti nella classe e gli docenti nella scuola o nelle reti di scuole cioè noi sostanzialmente dobbiamo immaginare che la scuola muta se mutano i suoi attori poi verranno le circolari verranno le risorse però se non cambia da dentro non ci sarà mai nessun cambiamento e qua vi scrivo vedete che bisogna passare da una logica di pianificazione e controllo a una creazione del contesto quindi bisogna che il dirigente cambia proprio cioè non si tratta di pianificare e controllare la scuola ma si tratta di creare e presidere un contesto e dove vedete la vera motivazione è l'automotivazione frutto di una visione condivisa ottenuta con l'esempio del leader che fornisce il cambiamento non è che sparisca il leader c'è ma deve sostanzialmente lavorare per un diciamo per un cambiamento che poi è sempre permanente e quindi vedete bisogna entrare in un'assunzione di responsabilità nella logica di interverità ecco quindi serve intelligenza distribuita interconnessa automotivata autoattivata al centro non si risolve il futuro nella periferia dentro le scuole autoorganizzate capaci di promuovere seconde reti interconnesse di studenti docenti tecnici dirigenti e scuole quindi l'autoorganizzazione e questa alla fine è il futuro affascinante per ogni scuola per ogni dirigente per ogni docente e per ogni e per ogni studente e con questo anche se sono dato lungo concludo vi faccio vedere questo questo dipinto questo è la zattera della medusa è un è un dipinto che fa il ferimento a un caso vero che praticamente una nave francese era nofragata sulle coste africane alla fine si sono salvati in pochissimi in una zattera e questa zattera vedete il pittore l'ha fatta vedere alcuni sono già morti alcuni sono ormai diciamo rassegnati c'è soltanto uno che ci crede ancora e che diciamo vedete sventola sventola in alto questo drappo alcuni lo stanno criticando del tipo ma cosa fa questo ormai siamo tutti morti però se guardate qua in fondo forse non si vede ma c'è una vela quella è la nave che starà arrivando per salvarli ecco allora in questa metafora mi piace immaginare appunto che dentro una scuola noi eriamo gente che ormai ha già chiuso si considera già in prepensionamento c'è gente che che però ci crede e che alla fine porterà alla salvezza di tutta la zartra cioè della scuola con questo concluso siamo in tempo per fare un po' di domande e di interazione e concludo anche la chiudo anche la ecco interrompi la condivisione e quindi torno torno in diretta eccomi qua professore che dire a parte che a tutti servirebbe un Alberto felice dei toni sulla scrivania da attivare ogni tanto quando prende la disperazione ecco e a parte che la invito il giorno in cui prenderà il Nobel a dire di nuovo che i professori sono come il gas e tendono sempre a espanderti veramente non soltanto una ricchezza di stimoli impressionante una chiarezza enorme ma anche davvero la piacevolezza nell'ascoltarla per cui la ringrazio perché non solo abbiamo imparato ma siamo stati anche bene con lei ad ascoltare le sue parole infatti anche nella chat del canale vengono soprattutto affermazioni diciamo di condivisione e di apprezzamento Daniela Ruffolo dirigente dell'istituto di Giffoni dice grandi verità Ornella Golino concordo pienamente Alfina dice Alfina Bertè anche lei dirigente di una delle scuole dell'ora di lezione non basta Cireali dice il cammino si fa andando sacro santa verità il plesso è scuola e necessita auto-organizzazione periferica all'interno di una guida chiara e coerente ed ancora insomma parole d'oro questa è la leadership Daniela Pampaloni la coordinatrice della rete delle scuole senza zaino che ringraziamo ci sta seguendo purtroppo sul canale YouTube e non dalla piattaforma Zoom per cui non le posso dare la parola ma se riesci Daniela a collegarti anche su Zoom potrebbe essere interessante una tua interazione ci segnalava come nella ricerca che ci ha fatto vedere di De Marchi tre delle scuole studiate sono scuole polo proprio della retestenza zaino quindi c'è stata un'interazione anche con il movimento Antonietta Guadagno ci dice abbiamo bisogno di formazione su questo con esperti come lei e Daniela Ruffolo di nuovo dice passione motore di tutto e senso di appartenenza e Ornella mi sembra bella anche la sua diciamo conclusione dice evviva la ricerca ci apre la mente ci rende più consapevoli e dà corpo anche ai nostri pensieri per cui davvero una comunità che la sta ascoltando con grande entusiasmo c'è anche una domanda che io intanto mi limito a rivolgerle per poi però invitare anche le persone che stanno condividendo con noi la piattaforma di Zoom ci ha raggiunto anche Maria Paola Pietro Paolo che ringrazio anche lei una delle dei motori della rete e membro del gruppo di lavoro appunto sulla comunità educante insomma la ringrazio di essere con noi se vuole intervenire volentieri ci sono anche tutti gli altri ecco Daniela Ruffolo proprio ci chiede ci sono strategie nuove per valutare il sistema quindi questa è una prima domanda che le viene fatta una la aggiungo anch'io giusto per dargliene qualcuna in modo che poi possa fare anche una risposta di sintesi lei ha sottolineato molto quanto il cambiamento quindi l'onda nella metafora del surfista è uno dei motori che aiuta le organizzazioni a sopravvivere tra il troppo ordine e il troppo disordine quindi è quel limite che ci fa stare sull'orlo del caos e conduce non soltanto le organizzazioni all'innovazione ma proprio alla vita all'essere vitali eppure il cambiamento è una delle dinamiche che soprattutto nei sistemi complessi e la scuola è uno di questi viene vissuta proprio con maggior difficoltà quindi come accorciare la distanza che in questo momento c'è tra la percezione della fatica del cambiamento e la comprensione della dinamica del cambiamento come dinamica vitale per la vita delle organizzazioni questo le chiedo io non so se vogliamo raccogliere un altro paio di stimoli Marco ma sì una riflessione brevissima intanto volevo dire che ho avuto la fortuna di essere amico di Thomas se è Giovanni mi ha fatto piacere la citazione tra l'altro Puntop è scomparso diversi anni fa e andai a trovarlo a San Antonio negli Stati Uniti lui aveva l'idea e il titolo del libro ricorda questo aspetto di scuole comunità ma anche di scuole comunità di dimensioni ottimali ora però in Italia la scuola la chiamiamo plesso invece per il nostro movimento dovrebbe essere chiamata scuola perché è l'unità di base e l'istituto scolastico è un istituto che mette in rete scuole comunità ecco come vede questa questa diciamo prospettiva nel frattempo Daniela ci ha raggiunto anche su Zoom grazie Daniela se hai anche tu una domanda da porre insomma ancora abbiamo qualche minuto prima di dare di nuovo la parola al professore tra l'altro mi segnalano che c'è un piccolo delay diciamo tra la diretta su Zoom e la diretta in streaming su YouTube per cui può darsi che alcune domande si aggiungano per cui se vuole professore magari le lascerei la parola intanto risponde da queste allora ci sono state tante domande adesso alcune non me le ricordo allora partiamo con la valutazione no strategie di valutazione allora la valutazione è uno strumento non è una perché ci sono un po' di battaglia perché guardate la valutazione intanto è molto difficile molto difficile e ad esempio io nel mio ateneo ho fatto pochissimi indicatori perché intanto misurare è difficile avere avere indicatori affidabili non è facile e quindi alla fine la valutazione è fatta però io sono di questo di questo avviso deve essere molto essenziale quindi pochi indicatori condivisi organizzato in maniera periodica altrimenti rimane un attento eccetera ecco però il problema grosso non è tanto la valutazione è quello che se ne fa ok ecco allora io qui voglio dirvi questo che nelle organizzazioni migliore prevale il codice materno su quello paterno ecco allora adesso qua bisognerebbe un po' capirci cosa voglio dire cioè questo è un concetto che mi ha dato uno che fa terapia della famiglia cioè quando un bambino ha dei problemi o una bambina ha dei problemi chi fa terapia della famiglia cerca di capire se c'è un equilibrio tra il codice materno che è quello della madre poi attenzione a volte possono essere inversi i codici però il codice materno è il codice che protegge il bambino indipendentemente dai risultati mentre il codice paterno è un codice che premia il bambino in funzione dei risultati ecco quando prevale il codice paterno il bambino va in ansia dai risultati e quindi diciamo comincia ad avere problemi quando invece prevale il codice materno quando il bambino cresce a fronte al mondo vero succede il disastro quindi attenzione terapia della famiglia equilibrio tra codice paterno e materno se voi prendete questo concetto lo portate nell'organizzazione è lo stesso cioè le persone devono sentirsi protette perché appartenenti alla famiglia e quindi necessitano di una protezione comunque è il codice materno nella stessa organizzazione però bisogna bisogna premiare i migliori per orientare verso comportamenti esemplari allora qual è la verità la verità è questa che laddove prevale il codice paterno succede la disintegrazione dell'organizzazione cioè del tutti contro tutti e non funziona infatti infatti i codici cioè le organizzazioni più le organizzazioni più longeve sono quelle a prevalenza dei codici materno ok allora io vi dico che cosa ho fatto che è un grosso problema la progressione di carriera dei docenti no voi avete dei docenti perché l'università non è come da voi che la carriera non c'è di fatto o uno fa il docente o fa il dirigente che è una scelta onestamente un po' un po' duale no nel senso che si può fare anche una carriera dentro l'education ok però questa è un'altra partita che non voglio toccare quello che voglio dirvi però è questo che molti colleghi dicono no dobbiamo premiare i più bravi e quindi facciamo diventare ordinari anche i giovani e se ne freghiamo di quelli che sono in lista d'attesa che sono magari meno bravi però si impegnano molto allora per farla breve questo è un problema enorme perché la valutazione che va fatta dopo però il problema non è valutare il problema è che cosa ne fai di questi risultati allora la mia tesi è questa che dobbiamo riservare un 20% delle risorse per premiare i giovani talenti e quindi se abbiamo 10 cattedre 10 promozioni da fare 2 le facciamo sul merito effettivo mentre 8 le faccio sull'impegno alla direzione e anche diciamo perché perché nell'esperienza che ho visto anch'io quando lei fa l'inverso succede il finimondo le persone non lavorano più si demotivano succede il disastro quindi quindi la domanda è strategia per la valutazione rispondo la valutazione va fatta però la questione più delicata è le logiche di premio allora io sono di questa idea che se lei toglie il merito diventa un disastro perché non c'è nessuna motivazione a impegnarsi eccetera ma se lo spinge troppo perché ho avuto una lunga discussione con Abravanel Abravanel è un ex consulente McKinsey che ha fatto il libro la meritocrazia e sostiene che i problemi della società dell'organizzazione sono che non c'è meritocrazia allora dobbiamo stare attenti perché questo qua è un atteggiamento a mio avviso ideologico perché in realtà se lei sposa la meritocrazia fino al 100% sa qual è la verità che come dice Pareto lei tutti i fenomeni sono 20-80 lei ne ha un 20 di bravi di talenti e un 80 di meno bravi allora cosa succede che se lei dà i talenti comunque vanno avanti da soli comunque il problema è come lei recupera gli altri 80 quindi io sono per una valutazione che ci deve essere però ci deve essere un'attenta ripartizione delle risorse per il premio dove ripeto dobbiamo tenere coesa l'intera organizzazione e quindi la coesione è un valore drammaticamente più potente del riconoscimento del merito che va fatto ma non in maniera acritica o addirittura totalizzante questo è un discorso grossissimo questo è un discorso enorme tant'è che nella scuola non si riesce neanche ad iniziare questo discorso della valutazione perché si aprono posizioni ideologiche corporative però la realtà è che si può io l'ho sperimentato io nella mia facoltà di 120 colleghi abbiamo alla fine concordato che mandiamo in cattedra anche i trentenni i quarantenni però abbiamo mandato in cattedra gente a 60 anni che ormai erano 5 anni alla fine carriera e le abbiamo mandato in cattedra perché gli ho detto ragazzi dobbiamo tenere accesa la speranza di arrivare al massimo della carriera fino all'ultimo anno di servizio quindi la valutazione è un tema enorme su cui Berlinguer ci ha dimesso il ministero quando si è approvato per fare la valutazione per chi per chi ha i cappelli grigi come me io Berlinguer lo conosco bene è una persona che stimo moltissimo e mi ricordo che mi disse io avevo fatto l'accordo dei sindacchiati poi l'accordo venne sconfissato io ci dimisi il posto di ministro ecco però attenzione che non fare la valutazione è un'altra scelta ideologica che vuol dire allora vale tutto chi si impegnano e si impescano a me ci vuole coraggio però ci vuole coraggio di perdere neanche il posto quindi l'ho detto a Berlinguer che lui è stato eroico ecco ecco questa è solo una me ne avete fatto tante domande ma ogni domanda dietro c'è ha un conto ecco quindi bene non so Donatella mi dica lei che domanda facciamo così siccome vedo che anche Marzia chiedeva di fare una domanda Daniela non so se tu hai un piccolo ritorno riaccogliamo professore se è d'accordo un altro paio di eh di diciamo di stimoli e poi le lascio di nuovo la parola se può fermarsi un pochino con noi tanto sta aprendo credo anche la pista poi per l'ulteriore contributo di Marco che seguirà Daniela do la parola prima a te Marta se sei d'accordo e poi do la parola a te grazie grazie Donatella io grazie professore l'ho seguita l'avevo già sentita altre volte quindi ho sono condivido molte delle cose che lei ci dice volevo chiederle questo ma chiederle insomma volevo lanciare una sfida per ragionarci sopra lei parla di sistema a molte menti di dirigente costruttore vado alle punte più e l'ultima cosa che ha detto tenere coesa l'intera organizzazione perché poi credo che questo sia il punto principale anche per diventare per essere poi un costruttore per poter far mettere in movimento parla anche di visione e di relazione sui valori sì allora dal punto di vista poi organizzativo sì mi piacerebbe non dico stamattina perché credo che sia molto molto lunga anche come come risposta ma dal punto di vista organizzativo come teniamo insieme questi aspetti che sono come dire i fini a cui tendere no perché lo sviluppo cioè andare a pensare a un dirigente costruttore si può si può costruire un dirigente costruttore ecco chiaramente molto dipende dal carattere dalla personalità ma insomma ci sono delle azioni che è possibile fare in questo percorso che noi stiamo facendo anche con i nostri dirigenti perché stiamo ragionando con i dirigenti delle nostre 300 scuole insomma allora secondo me cioè io vi racconto la mia esperienza io come persona singola potevo fare ben poco ci vuole un team un team per cui tanto per darvi un quadro nella nostra organizzazione che era di 1600 persone 800 200 800 teghe amministrativi più 20.000 studenti più cioè perché poi c'è tutto l'indotto le cooperative eccetera eccetera alla fine avevamo avevamo cioè io avevo 30 delegati io avevo un team mio di 30 per cui uno mi seguiva il web learning uno mi seguiva il disagio studentesco uno mi seguiva lo sport cioè c'è una marea c'è da fare una marea di roba e quindi dobbiamo trovare diciamo delle persone ecco quindi ecco però attenzione la visione allora noi la visione e il sistema di valori abbiamo discusso sei mesi io mi ricordo che molti mi dicevano ma stiamo perdendo tempo abbiamo il problema delle aule che non hanno il riscaldamento in realtà se lei non dedica del tempo a dire ma noi cosa che scuola vogliamo essere che università vogliamo essere vogliamo essere un'università specialistica o pluralistica vogliamo essere una università diciamo insomma avevamo individuato almeno 4-5 modelli di università abbiamo discusso sei mesi che cosa volevamo essere ecco ci abbiamo messo sei mesi poi abbiamo fatto un elenco di dieci valori dieci numero biblico come i dieci comandamenti in che cosa crediamo va bene ma lei lo sa che ci abbiamo messo sei mesi con discussioni ferocissime se mentre la parola eccellenza dentro no alla fine non l'abbiamo messa perché alla fine abbiamo messo ci abbiamo messo i dieci valori e la visione sono i valori condivisi e la visione condivisa è l'altra faccia della medaglia che è l'autorganizzazione perché l'autorganizzazione definita delle linee guida io con ciascuno dei miei mi decedevamo le linee guida insieme poi mi vedevo all'inizio una volta per definire il budget ok e dopo sei mesi per fare l'avanzamento quindi li vedevo due volte all'anno e quindi loro erano erano dei pro-rettori che avevano la delega piena quindi io mi prendo la responsabilità devo dirvi la verità di questi 30 qualcuno qualche volta ha fatto degli errori però però è un prezzo da pagare se vogliamo fare allora alla fine ci vuole un team ci vuole un sistema di valore una visione condivisa e poi lavorare sulla responsabilità dopodiché è chiaro che le cose sono venute nel tempo mi spiego all'inizio quando sono partito molti erano diffidenti perché sa qual è la verità che il modello auto-organizzato è più sfidante è più difficile e molti non se la sentono io ho avuto persone che sono venute da me mi hanno detto professore guardi lei ha ragione però io non dormo di notte se non ho un compitino chiaro che cosa devo fare cosa devo scrivere cosa dice io non me la sento di diventare un intra-imprenditore non ho i talenti non me la sento allora che cosa è successo per essere onesti è successo che io ho avuto perché all'inizio si cadevano in pochi però gli obiettivi ci erano piccoli quindi noi dopo un anno abbiamo portato a casa il risultato quelli che stavano a guardare ah no allora sta facendo sul serio e sono venuti a bordo anche loro allora all'inizio eravamo in 30 l'anno dopo eravamo in 100 alla fine del sesto anno eravamo metà università mi lavorava in auto-organizzazione ma l'altra metà non è che non ci credesse non ce la faceva perché non ce la perché è più difficile perché alla fine diventi un inter però cos'è successo che mi si è creato un doppio mercato del lavoro cioè mi spiego non è che lei ha tutti i lavori belli da fare perché bisogna fare anche le missioni bisogna prendere i scontrini metterli in fila fare il totale non è molto gratificante a 1200 euro al mese però cos'è successo che quelli che avevano delle potenzialità e gli ho dato spazio mi hanno cambiato università perché quando lei ha 600 persone che cominciano a muoversi sapendo di avere la fiducia e il mandato del vertice le cambiano tutto l'altro 600 mi andava a velocità più bassa ok io mi sono inventato il differenziale lei nelle auto le due ruote vanno a velocità diverse se ha il differenziale possono coesistere quindi alla fine io avevo che le persone che volevano giocarsela hanno scelto di andare su posizioni di di assumersi delle responsabilità propormi delle idee delle robe e gli altri sono rimasti in fianco ma in un clima di coesione questo è quello che è successo è che alla fine io ho lasciato libera scelta in libero della città io ho detto volete stare nel modello gerarchico sì perché perché sono perché alla fine la gerarchia dà sicurezza attenzione perché hai un capo a cui chiedere la promozione hai un capo a cui chiedere il compitino per casa ragazzi allora se volete il capo io ve lo do però partichiaria amicizia lunga non ostacolate i lavori e alla fine abbiamo creato un clima di fiducia di engagement e alla fine lo sai cosa facevamo un sacco di cerimonie perché il problema vero è dare visibilità a questi lavori perché siccome non potevo pagarli non potevo pagarli allora facevamo le cerimonie di riconoscimento pubblico perché i riconoscimenti sono sostanzialmente molto importanti per motivare le persone e lui dice è vero tu becchi 1200 come l'altro ma tu stai facendo il be e poi attenzione noi lavoriamo per l'istruzione pubblica noi lavoriamo per liberare per liberare dall'ignoranza cioè noi siamo cioè io lo dico sempre le università e le scuole sono sostanzialmente gli organizzatori delle più grandi evasioni di massa l'evasione di massa dall'ignoranza quindi noi abbiamo una funzione pubblica fondamentale è l'unico ascensore sociale che è rimasto l'istruzione creiamo uomini e donne liberi secondo me solo questo io dico ragazzi ma ma è importante stare dentro un'organizzazione che ha questa finalità che è sociale è rivolta verso la creazione diciamo di cittadini e cittadine che siano che siano diciamo delle persone attive con capacità critiche e quindi sostanzialmente io ho lavorato moltissimo mi sono inventato non avevamo la spilla ma la sono inventata mi sono inventato la cerimonia del tocco dei riconoscimenti pubblici da persone in carriera abbiamo fatto il passaggio direttore siccome nel nostro simbolo è un'acchia abbiamo fatto il passaggio del grifone cioè lavorare molto sul tema del mito e del rito e dei riconoscimenti cioè è una variabile su cui il ministero non fa niente è una variabile chiave è una variabile chiave ok e poi c'è un discorso un po' più sofisticato ma poi lo voglio dire e cioè che è l'equilibrio del potere cioè in pratica la cosa fondamentale io ho dato tanta autonomia ok però attenzione l'autonomia spesso può sforzare in conflitto in periferia perché se ha autonomia è vera e se qualcuno non lavora per il bene pubblico ma lavora per sé per il suo gruppo e viene fuori il conflitto allora io la parola chiave era autonomia e cooperazione e quindi premi ai cooperatori premi a chi collabora cioè sostanzialmente dobbiamo sviluppare fortemente la cooperazione tra docenti dipartimenti e squadre allora bisogna mettere una grande enfasi sulla cooperazione perché quella è la cartina di torna sole perché se l'autonomia vedete l'autonomia molti la chiedono non per comparare con gli altri ma per fare i fatti loro quindi bisogna bisogna passare in maniera molto attenta perché quello lì diventa isolazionismo diventa una cosa quindi il problema io l'autonomia te la do ma devi lavorare per il bene comune e devi cooperare con gli altri ecco e quindi là c'è tutto un discorso e poi a chi non ce la fa il problema la domanda è ma hai chiesto aiuto in fianco o no? perché la domanda chiave è ma quando tu non arrivi al risultato hai chiesto aiuto a chi ti sta in fianco no e allora non va bene perché il problema è che sviluppare le relazioni orizzontali nella logica quindi lavorare sostanzialmente sulla visione sistemi di valori i riti i miti è la creazione di un contesto che è fondamentale perché se lei non ha un contesto di significato non le importa da nessuna parte diventa una cozzaglia di procedure piani riunioni cioè non c'è l'anima lei deve creare un'anima deve creare un orgoglio d'appartenenza perché scusate ma noi alla fine siamo degli educatori educe vuol dire tirar fuori insegnante vuol dire lasciare il segno cioè io mi ricordo in prima liceo il professore di lettere che ci faceva imparare a leggere il giornale che ci ha fatto mi ricordo l'emiciclo della DC con le 10 correnti poi c'era il PSI con le 6 il PC con le 12 cioè noi abbiamo imparato dai professori come funzionava il mondo cioè noi stiamo dentro un'organizzazione che bisogna fargli una medaglia una volta non c'era non so se lo sappiate ma il rettore deriva da retta sapete cosa vuole che è gli studenti della borghesia non potevano studiare i figli dei nobili avevano il precettore i figli della borghesia si tassavano il rettore era il capo degli studenti che raccoglieva la retta per pagare i docenti e la prima cattedra pubblica pagata con i fondi pur di quella di Venezia di Galileo che voleva premiare Galileo perché col canocchiale vedevano le navi arrivare quindi erano avvanteggiati quello che voglio dirvi è che quindi la scuola è un'istituzione fondamentale in un paese com'è la sanità e com'è la giustizia è uno dei tre servizi chiave di un paese i protagonisti l'abbiamo visto con Sean sono i docenti che sono sostanzialmente quelli che fanno nella loro professione addirittura la scoperta e la ricerca della didattica ecco e quindi secondo me se un docente viene riconosciuto anche dal dirigente dai colleghi trova una sua motivazione altrimenti va lì per il 27 degradante per lui ma anche per la scuola grazie allora siamo un po' in ritardo quindi le leggo altre due diciamo piccoli stimoli lascio la parola a Marzia per la sua domanda e poi le lascerei un intervento di risposta e conclusione ecco allora Maria Paola affida alla chat un piccolo commento dicendo moltissimi sono gli spunti sui quali riflettere le connessioni con il nostro modello e vanno riprese approfonditi per svilupparli e modurarli in pratiche promettenti le leggo volentieri anche il messaggio di Rita che dice sono docente dieci anni fa ho scelto la formazione su knowledge management dell'università di Torino Nonaca e Dunia astrologo mi sono sentita compresa e oggi con lei esaltata Patrizia Neesi anche lei affida alla chat la sua domanda dice questo aprirebbe un altro capitolo enorme quindi non le chiede di affrontarlo oggi però come conciliare tutto questo con cui lei è molto d'accordo con la difficoltà costruita dall'estremo costituita dall'estremo turnover di DS e docenti della scuola italiana cioè un modo oppure no perché questo effettivamente è un altro elemento del quadro che dobbiamo considerare Marzia anche tu avevi una domanda e poi lasciamo al professore le conclusioni ecco chiedono anche non potendo avere lei portabile appunto sulla scrivania se invece possiamo avere le slide così magari le mettiamo davvero sul me le mando subito dopo prego Marzia intanto professore grazie mille di questo intervento è davvero illuminante la ringrazio davvero io sono un'insegnante parto dalla fine parto da quel quadro spero di essere quella che però non è sempre così a volte dentro di noi convivono più personaggi a volte siamo quello morto a volte siamo quello moribondo a volte siamo passia rassegnato stanco quindi siamo un po' tutti questi personaggi ma speriamo che quello che sventra la bandiera sia quello che predorma la fine la mia domanda è questa a parte dirle che se noi eleggessimo i presidi avremmo veramente delle sorprese secondo me ci sarebbe una sorversione probabilmente dello status non so che cosa succederebbe ma sarebbe assolutamente un esperimento di studi sociali veramente di notevole portata ma a parte questo la mia domanda invece è questa ho fotografato una delle sue slide in cui lei dice il futuro è nella periferia dentro le scuole auto-organizzate capace di promuovere feconde rete interconnesse di studenti eccetera io sono assolutamente d'accordo faccio una domanda proprio da visionario lei come se le immagina queste scuole auto-organizzate ce le immagina ce le ha in testa me le immagino aperte tutto il giorno e il pomeriggio i ragazzi vanno a giocarsi dentro perché vede il gioco è la prima forma d'apprendimento addirittura delle specie animali e infatti è learning by game cioè l'apprendimento è fondato sul gioco io ho fatto per molti anni il capo scout per molti anni l'ho fatto forse si sente io ho fatto il capo dei lupetti delle coccinelle è stata un'esperienza meravigliosa e la consiglio a tutti ho mandato anche i miei figli la riscautio e come me l'immagino me l'immagino sostanzialmente che diventino nel pomeriggio aperte e gestite e auto-organizzate dagli studenti cioè gli studenti che auto-organizzano i loro hobby le loro sport le loro passioni sempre quando quando noi preparavamo un gioco non un gioco un gioco in genere viene bruciato nell'arco di un quarto d'ora di mezz'ora perché i bambini specialmente piccoli ma noi per preparare quel gioco lavoravamo due o tre ore quattro ore insieme e quindi il gioco che veniva bruciato in mezz'ora richiedeva tre ore e mezza di preparazione dove il campo lavorava con i ragazzi ed è lì che si creava il passaggio delle nozioni la cooperazione i microconflitti la gestione dei paradossi cioè sostanzialmente quello che voglio dire è che queste scuole autoorganizzate io me le vedo appunto alla mattina autoorganizzate dai docenti che organizzano l'insegnamento in una logica di apprendimento al pomeriggio autoorganizzate dagli studenti che le fanno diventare un luogo di animazione sociale cioè le scuole che siano chiusa al pomeriggio se lei si pensa è come avere un bel di Dio messo lì la scuola deve diventare un luogo di riferimento sociale una volta si diceva c'era il maestro il prete e il farmacista nei paesi adesso i farmacisti sono diventati dei commessi di prete il maestro non è più alla fine la scuola diventa l'unico riferimento di un territorio e quindi io me le immagino poi me le immagino federate perché secondo me e poi deve avere anche più identità io sono d'accordo che le scuole hanno un'identità e un turnover diciamo però bisogna anche premiare chi decide di sposare tra virgolette la scuola noi abbiamo lo stesso problema noi abbiamo docenti bravi a volte ci van via e allora noi per tenerli li creiamo dei vantaggi e quindi insomma è tutto da inventare secondo me non lo so io sono io nonostante siamo dei pessimisti cioè tutti quanti c'è una parola che mi offende molto quando si dice la facciamo all'italiana ecco io invece sono un grande fan del nostro paese perché io vi dico solo una cosa i nostri studenti universitari che vanno in Erasmus quando tornano sono sempre i più bravi allora mi sono chiesto ma è merito dell'università è merito delle scuole io mi sono fatto un'idea è merito della cultura italiana è una cultura che noi sottovalutiamo ma è molto stratificata è molto variegata è aperta alla fine non è nazionalistica sarà che veniamo dei comuni però alla fine la cultura delle nostre studenti che vanno all'estero è una cultura che vince perché è più aperta è più è più orientata al dialogo e quindi e quindi le scuole in una città sono un luogo di presidio di questa cultura che è del territorio ma che noi dobbiamo vivificare e rilanciare ecco io credo che queste scuole autoorganizzate siano da inventare e dovete inventarlo voi questo è il tema vero cioè io posso inventare le università le università sono molto autoorganizzate di più infatti mi sono sempre chiesto perché le scuole non tentano a mutuare i modelli universitari perché alla fine l'elezione del presidio alla fine le dico solo questo quando l'ho proposto mi hanno detto eh no ma andiamo a finire che il preside viene eletto su logiche clientelari sì ma è un rischio che secondo me anche la democrazia è così allora scusate ma allora i sindaci li nominiamo li facciamo nominare dall'alto e evitiamo le clientele della democrazia cioè secondo me ad esempio queste scuole autoorganizzate secondo me dovrebbe leggersi il preside dovrebbe che poi sta il nome del preside che è più bello di dirigente perché di dirigenti è pieno il preside invece ha il presidio secondo me era bellissimo il nome non so perché l'han tolto perché non si considerano che queste cose sono importanti è come delle scuole autoorganizzate io me le vedo gestite dai docenti e dagli studenti con modelli molto diversi quindi lascerei la varietà insomma darei molta libertà responsabilità e premierei le reti ad esempio le premerei l'autoorganizzazione deve essere anche attenzione non solo delle scuole ma delle reti di scuole e delle comunità di pratica cioè le comunità di pratica dei docenti delle discipline dovrebbe essere il ministero fa quasi niente dovrebbe finanziarle premiarle animarle cioè perché le reti le comunità di pratica sono uno strumento più potente per per vivificare le singole organizzazioni capito quindi non solo scuole che organizzate ma anche reti di scuole e reti di comunità di pratica di docenti una rete di reti ecco e me le immagino le scuole organizzate una squadra di squadre bene bene professore io non posso che ringraziarla davvero tanto non ci ha soltanto appunto introdotto delle teorie più di una teoria estremamente affascinante ma ha fondato più di una volta anche all'interno della sua pratica della sua esperienza e questo ci dimostra che si può fare non sono belle parole non è soltanto un'utopia è piuttosto un'utopia orientativa e possiamo da oggi cominciare a mettere anche noi nel nostro piccolo docenti e non soltanto presidi per utilizzare la parola che a lei piace di più cominciare a costruire ecco questa scuola auto organizzata per l'apprendimento davvero dei ragazzi tra l'altro quando lei parla di una squadra di squadre la rete delle scuole senza zaino proprio questo cerca di fare di costruire comunità di pratiche e comunità all'interno appunto tra le scuole quindi io credo anche riprendendo l'invito che Maria Paola in qualche modo faceva che probabilmente ci incroceremo di nuovo in qualche modo magari ci potrà dare davvero una mano per poter sviluppare in maniera più costruttiva aderente e mettere a terra i contenuti di cui oggi abbiamo parlato ci sono molte molte altre domande che vengono fatte ma io davvero mi devo fermare la ringrazio non vogliamo abusare del suo tempo le auguriamo un'ottima estate voglio anche io augurervi tante cose mi voglio complimentare con Marco e tutto lo staff che mi ha un grito e forte vedo tanto entusiasmo che è la cosa più importante grazie grazie davvero ci vuole un dream le scuole senza Zeno sono state un grande esempio continuate così va bene? grazie bocca al lupo arrivederci e buona giornata grazie bene ma la nostra mattinata non è finita e anzi può continuare appunto un po' sulla scorta credo anche di alcuni degli stimoli che sono arrivati dal professore e Marco Orsi ci aiuta in questa seconda parte purtroppo siamo andati un po' lunghi e Marco mi scuso ma ho pensato di interpretare anche la tua disponibilità lasciare un po' più di tempo a quello che era appunto l'ospite esterno diciamo con te così fortunatamente con te abbiamo una confidenza di rapporti che ci consente di avere più occasioni per ascoltarti però il tuo è un intervento importante non è soltanto la sostituzione di Pier Cesare di Voltella ma è anche il modo un po' per tracciare alcune linee di continuità tra quanto abbiamo ascoltato e i temi sui quali il movimento più complessivamente si sta impegnando anche negli ultimi tempi ricordiamo anche i gruppi di lavoro che la rete sta promuovendo per esempio sul tema dell'accoglienza delle nuove persone che arrivano all'interno della scuola lombordino come lo vogliamo chiamare pensiamo appunto alla riflessione che anche i gruppi di lavoro all'interno diciamo della rete stanno facendo su tutto il tema appunto di management e così via anche cominciando a confrontare alcuni percorsi organizzativi anche te poi in maniera personale hai sviluppato in qualche modo un percorso di ricerca più complesso su questo lo hai fatto anche attraverso il tuo libro che faccio vedere nella copertina uno zaino troppo pesante le strade per una scuola ecologica e leggera anche il professore oggi è partito proprio richiamando la leggerezza una delle cinque lezioni americane di Calvino quindi ti do volentieri la parola credo che saprai trovare le connessioni con quanto ascoltato fino oggi e te ne ringrazio prego sì no assolutamente ci sono connessioni in parte conoscevo la riflessione di Lettoni in parte ovviamente perché ha scritto ha scritto molti libri però diverse sue suggestioni in qualche modo le avevo tenute in considerazione ho visto che ha sottolineato l'aspetto della leggerezza per esempio parlando quando ha parlato di conoscenza e di potere che il potere si espande si può espandere e aumentando il potere non è che viene tolto a qualcuno se si aumenta il potere a qualcuno non è che diminuisce a qualcun altro non è una questione a somma zero ed è proprio quello che due autori sui quali ho cercato un pochino di approfondire anche di proporlo al movimento senza zaino che sono Tolman e Tyler no scusate Morier e Tolman il libro a cui faccio riferimento è la Smart Simplicity va bene niente io ho preparato questo intervento incentrandolo su tre grossi aspetti tre capitoli il primo è i risultati quali sono i risultati della nostra scuola il secondo è come funziona il nostro sistema e uso la la metafora l'immagine c'è un sociologo dell'organizzazione che si chiama Garrett Morgan il quale dice che le immagini per descrivere le organizzazioni sono importanti bene io ho usato il libro ne dà conto il libro che ho scritto ultimamente l'immagine del Pachiderma l'ultimo capitolo è la comunità perché il ragionamento anche di Detoni alla fine confluisce su questo tema che non è stato direttamente evocato ma parlando delle periferie parlando del basso parlando dell'auto-organizzazione necessariamente viene evocato il tema della comunità condivido lo schermo per la mia presentazione cercando di essere più breve possibile perché perfetto vediamo sì aspetta faccio avvia ok ok come vedete ho messo ho messo il titolo del libro ma questo è meno importante ecco parto dal tema che tra l'altro ha sollevato Donatella dell'ora di lezione non basta che è questi temi fondamentali con i quali il Movimento Senza Zaino si sta confrontando in modo forte sconfigge la povertà educativa promuove la comunità educante la scuola ha un ruolo fondamentale ultimamente ho ripreso in mano un paypal di Hatti che lo trovate in rete il quale dice tra le varie cose molto molto interessanti dice c'è la convinzione che gli educatori non possano fare molto per porre rimedio alla povertà quasi che il problema riguardi la società esterna e quindi non è una cultura che è diffusa nella nostra scuola italiana è un po' una questione globale ma non è così dice Hatti possiamo offrire le migliori opportunità per aiutare gli studenti non importa quale sia la loro situazione familiare cioè la scuola può fare la differenza e continua convinzione che possiamo fare la differenza per i bambini e le famiglie con scarze risorse e questo è un punto di partenza importante e il mantra dovrà essere ci sono opportunità per ogni persona che attraversa il cancello della scuola e entra nella mia classe indipendentemente dal loro background allora però vediamo i risultati io riprendo e integro alcune alcuni dati che ci hanno che ci ha illustrato Alessandro Rosina nell'ultimo nello scorso incontro per esempio ricordo la questione che è drammatica dei NIT di quegli studenti di quei giovani che non sono in percorsi formativi ma non sono nemmeno al lavoro non sono occupati nonostante che il 64% di questo milione di giovani sia disponibile come sottolineava Rosina a lavorare ci ha presentato Rosina anche il problema che riguarda l'emergenza covid nell'emergenza covid è stata fatta un'indagine i giovani che si aspettano un impatto negativo bene voi vedete le colonne dell'istogramma blu che sono quelle dell'Italia sono le colonne più alte c'è questa preoccupazione dei giovani rispetto alla cosiddetta ripartenza e poi diremo che il termine di partenza funziona poco che dobbiamo tenere in considerazione gli apprendimenti vado velocemente dati sarebbero numerosi ne elenco solo alcuni la scuola non funziona la scuola italiana non funziona come ascensore sociale vedete sulla lingua italiana tanto per fare un esempio le famiglie i ragazzi che appartengono a famiglie status alto hanno dei punteggi molto superiori alle medie cioè 217,8 i ragazzi di famiglie appartenenti a status basso il punteggio è 1,81 cioè ha molto al di sotto della media nazionale è una conferma del fatto che la scuola non riesce soprattutto in Italia a fare la differenza ancora c'è il tema degli abbandoni in Italia tra le pregiori è un'Europa per abbandono scolastico un giovane su 7 non arriva al diploma già prima della pandemia il 15% degli studenti usciva dal sistema scolastico in un libro molto interessante che io riprenderò di Stefano Stefanel Innovare il Curricolo è uscito pochi mesi fa sottolinea anche il fatto dell'abbandono universitario cioè della molteplicità di studenti di una quantità piuttosto grossa di studenti che inizia il percorso universitario ma non lo finisce interessante è poi l'analisi di una ricerca anch'essa presentata da Rosina dell'Istituto Toniolo del Movimento Parole e Stili e del Centro di Ricerca Ipsos dove per esempio si chiede ai docenti rispetto a prima della pandemia ci saranno più o meno ragazzi che abbandoneranno la scuola il 52% il 53% praticamente il 60% ha una percezione purtroppo negativa rispetto a prima della pandemia a suo parere è cresciuto il divario tra gli studenti tra chi ha più risorse socio-economiche e chi ne ha meno sono il 56,6% l'Italia questo l'ho tratto da Stefanelle questo è un altro grande problema che è anche di connessione tra scuola di base e scuola secondaria scuola superiore scuola secondaria secondo grado Stefanelle in questo libro interessante con molti stimoli abbastanza innovativi dice scambia i suoi studenti migliori e questo forse era una riflessione interessante da fare anche con De Toni scambia i suoi studenti migliori i liceali classico e scientifico tradizionale tra l'altro come frutto del sistema e non come selezione culturale di una scuola falsamente ugualitaria lo status familiare se infatti i migliori alunni del primo ciclo vanno ai licei classici o scientifici quelli subito sotto vanno agli altri licei e ad alcuni tecnici quindi a scendere c'è proprio questa discesa dalla scala che è una scala culturale sociale formativa educativa quindi a scendere si scelgono gli altri licei e professionali poi e conosco queste realtà per averle sperimentate personalmente si va nel girone infernale della formazione professionale ecco allora solo alcuni dati sappiamo che sono altri e più anche più significativi ma questo ci dà il quadro generale della situazione del nostro paese della sfida che abbiamo di fronte all'indomani anche della ripresa chiamiamola così io uso l'immagine del pachiderma per descrivere il sistema scolastico e il problema non è solo italiano le analisi di molti autori da Baricco a Ken Robinson ma pensiamo ai descolarizzatori alla Ivan Illich o a McLuhan dicono di questa enorme istituzione che non riesce a formare adeguatamente le nuove generazioni se non che De Toni ci parla dell'esperienza che noi conosciamo di sugata mitra beh dal punto di vista personale non solo l'Italia ma tutti i paesi dell'area del benessere hanno una mole di personale piuttosto ampia che si distacca dall'agenzia pubblica seconda per importanza di personale ma la distanza è molto grande cioè quasi un milione di persone nella scuola nella sanità è il secondo settore per presenza di personale circa 600.000 c'è il problema grosso della femminilizzazione ecco qui io ho fatto questa aggiunta mentre parlava De Toni ma questo problema della femminilizzazione che è eccessivo è stato rilevato anche in Italia da Gianluca Argentine che studia la cultura e la professionalità degli insegnanti con un grosso sociologo del calibro di Alessandro Cavalli ma questa femminilizzazione non porta a un problema anche di cultura educativa i due codici paterno e materno non dovrebbero essere contemporaneamente tenuti presenti anche se c'è questa attenzione al codice al codice paterno perché gli uomini non scelgono questo bellissimo lavoro che è il lavoro dell'insegnante dobbiamo chiedercelo abbiamo anche l'età lo sappiamo molto alta in Italia e poi c'è il carattere che io ho definito avvolgente e questo non è un problema italiano è il problema dei sistemi formativi cioè del sistema formale della scuola cioè questa persona che poi diventa insegnante in realtà ha visto nella sua esperienza solo la scuola da tre anni a 65 anni cioè l'insegnante che deve preparare i bambini e i ragazzi per la vita nella società nel mondo adulto non fa esperienza del mondo adulto della società perché sta sempre nel luogo dove si prepara ma non si fa esperienza della società allora qui per esempio è molto importante il curricolo del professore dell'insegnante del docente per esempio secondo me è significativo che questo curricolo non abbia solo esperienze formali ma anche informali per esempio io ho fatto delle piccole andagini quando insegnavo all'università a scienze della formazione a frequenza quasi totale femminile e la mia mi sono stupito dal dal rilevare che pochissime di queste studentesse hanno esperienze di esperienze informali o non formali cioè pochi magari fanno volontariato poche si occupano di musica di teatro di danza e di sport è molto importante e l'università dovrebbe assieme agli esami standard dare anche dei crediti perché questo rende la persona all'insegnante attento al mondo del suo complesso lo schema Sells e Belts è stato in qualche modo richiamato lo conosciamo benissimo è quello le campanelle la divisione in classi di età rigida la la frammentazione delle discipline eccetera eccetera un altro aspetto importante sul quale bisognerebbe riflettere anche nel piano per la ripresa cioè è vero che sono importanti le STEM ma oggi si puntualizza anche le STEAM cioè le discipline scientifiche ma anche quelle umanistiche per esempio Martha Nussbaum sostiene molto questo aspetto ma anche De Tony parlando della visione la visione non è collegata alle discipline scientifiche in modo stretto la visione è una è un qualche cosa che ha a che fare con i valori la cultura umanistica in senso più generale ma se nel mondo e anche in Italia la della STEAM non viene cioè l'arte delle dimensioni umanistiche ma anche la dimensione manuale ci sta nell'arte anche la dimensione arte artigiana cioè noi siamo conosciuti nel mondo per l'artigianato però che cosa abbiamo fatto in Italia abbiamo messo la materia tecnologie togliendo applicazioni tecniche cioè togliendo uno degli aspetti significativi io ho imparato per esempio a lavorare il legno perché avevamo un laboratorio di falegnameria alla scuola Carlo del Prete media di Lucca e io ho imparato a lavorare il legno me lo ricordo sempre tal che nella mia carriera un po' variegata ho lavorato anche in una falegnameria con un'assunzione e i contributi pensionistici la dimensione noi facemmo ormai qualche anno fa facemmo un convegno intitolato terra e nuvola cioè per dire digitale e tattile la mano e il cervello bisogna che il piano che farà diciamo così ripartire tra virgolette l'Italia per quanto riguarda la scuola deve considerare questi aspetti assolutamente più giorni a scuola noi abbiamo avuto una discussione anche all'interno nostro su più giorni di scuola cioè più scuola sembrerebbe che fosse connessa a più qualità ma se noi andiamo a vedere le cifre nei paesi Ocse non sembra così cioè la media dei paesi guardate nella scuola primaria è 775 ore mentre nella scuola italiana si fanno 891 ore nelle scuole secondarie italiane inferiori 990 ore la media Ocse è 894 ore 200 ore 200 giorni di lezione ed è il paese con maggior numero di giorni di scuola in Europa alla pari con la Danimarca Hatti ma non solo lui sostiene che aumentare il tempo scuola non produce qualità anzi può produrre disqualità qual è invece la strada vera è quella che per esempio suggeriva De Toni cioè la scuola tenerla aperta non dal punto di vista dell'educazione formale ma dell'educazione informale e non formale allora al pomeriggio teniamo aperte anche le scuole ma per una struttura flessibile dove arrivano le associazioni non solo quello ma noi dobbiamo vedere anche gli ambienti gli spazi oltre la scuola dove i ragazzi crescono le associazioni sportive musicali religiose teatrali se ci sono noi dobbiamo valorizzarle e creare questo è uno dei punti una mappa dello studente che riconosca questa presenza di bambini e ragazzi in queste realtà informali non formali come crediti come sottolineature di un impegno importante per la loro formazione questo deve riconoscere la scuola e questa l'idea della comunità educante dove il formale fa spazio al non formale e all'informale e la comunità educante cresce e abbiamo delle armi per sconfiggere la povertà educativa il disciplinarismo nella scuola primaria sono rimasto colpito da come Stefano Stefanella autorevole dirigente scolastico consulente anche del ministero nel suo libro innovare al curriculum segnala questo problema il rischio della scuola primaria di essere incatenata nel disciplinarismo cioè nella frammentazione disciplinare per emulare o per appoggiare la scuola media che sappiamo è uno dei punti più deboli del sistema scolastico italiano bisogna dircelo con chiarezza questo e Stefanella dice che la scuola primaria deve rimanere ancorata alle sue origini che non sono disciplinariste ma sono curricoli per argomenti per temi come diciamo noi temi generatori su questo noi bisogna stare attenti certo noi abbiamo degli strumenti che obbligano in qualche modo pensiamo al registro elettronico che va in questa direzione è vero che l'autoorganizzazione è importante ma è vero anche che a volte gli strumenti su questo io sono molto sono molto convinto gli strumenti le oggettualità definiscono in qualche modo le pratiche didattiche e si possono mettere come dire di traverso anche alla visione che noi possiamo immaginare non per nulla abbiamo insistito insistiamo nel nostro movimento sull'organizzazione degli spazi perché lo spazio a file di banchi di fronte alla cattedra invita non certo alla cooperazione all'autoorganizzazione ai sistemi di responsabilità eccetera eccetera l'altro punto io ho posto la domanda poi forse ce ne erano tante in gioco il problema della piattezza organizzativa è il tema uno dei temi cioè è possibile autoorganizzarsi come sostiene De Toni in un contesto è vero i legami deboli da Veic sono in qualche modo valorizzati ma probabilmente Veic non ha il quadro della situazione italiana in tutti i paesi del mondo ci sono le scuole cioè quella che noi chiamiamo plesso o indirizzo di scuola e quindi vedete diciamo l'assenza di gerarchia in pratica noi nei ministeri abbiamo un rapporto un dirigente con 52 persone ma con funzioni di middle management e la scuola mediamente un dirigente e 181 persone ma ci sono scuole per esempio colleghe anche di Lucca che hanno 250 280 docenti e questa è una cosa che rende veramente debole debole molto debole la possibilità anche di cambiare la ridondanza degli organigrammi io mi ha fatto piacere che De Toni sottolineasse questo aspetto abbiamo referenti responsabili coordinatori cioè gli organigrammi sono iper pieni straboccano di incombenze per esempio io sono per superare la funzione del referente anche nel movimento senza zaino deve essere il coordinatore della scuola e il dirigente scolastico insieme al suo collaboratore che si occupano di senza zaino cioè altrimenti noi che facciamo facciamo altro che creare referenti insieme ad altri referenti quindi magari in una fase transitoria è anche giusto nominare il referente senza zaino ma noi dobbiamo tendere a far sì che quella scuola con quel coordinatore che esercita una funzione di leadership sia coinvolto nel realizzare in questa scuola un modello diverso la pletora dei progetti e gli obiettivi nel libro che ha citato Donatella io elenco per esempio in terza media 271 obiettivi tratti dalle indicazioni nazionali che non sono considerate troppo spesso indicazioni ma sono considerate documento è considerato documento prescrittivo l'enfasi sui premi e le punizioni sui controlli l'ha detto anche De Toni ma questo ha a che fare forse lì la riflessione poteva essere anche approfondita sul fatto che la scuola si fonda sui premi e sulle punizioni cioè su il voto invece che sui crediti arrivo al terzo ed ultimo capitolo la comunità bene due cose sostanziali che hanno messo in evidenza sia Alessandro Rosina che Chiara Giacardi sono queste la prima è Alessandro Rosina dice nel piano per la cosiddetta ripartenza dobbiamo passare dalla quantità alla qualità io l'ho sostenuto anche nei nostri gruppi di lavoro del Movimento Senza Zano che il rischio del Ministero e l'istruzione in questo piano è di insistere troppo sulla quantità e poco sulla qualità e dobbiamo invece presidiare questo aspetto la seconda cosa ma è collegata alla prima dice Chiara Giacardi non parliamo di ripartenza ma usiamo il termine nuovo inizio altrimenti ripartenza significa di nuovo dire beh ci siamo fermati ma la macchina funzionava ha usato un po' questa metafora anche Rosina la macchina funzionava già in questo modo bene ora avevamo consumato tutta la benzina e quindi funziona sempre a benzina col motore a scoppia eccetera eccetera beh ora ritroviamo la benzina la mettiamo di nuovo nel serbatorio finalmente ripartiamo no qui bisogna veramente pensare ad un nuovo inizio qual è il nuovo inizio in parte l'ha ridetto anche De Toni mettere insieme didattica e management educazione e organizzazione io scrissi e forse anche questo è stato uno degli aspetti che mi ha spinto a coinvolgere le persone in un'iniziativa come il Movimento Senza Zain ho scritto all'inizio del 2000 un libro intitolato scuola organizzazione comunità io dicevo questo il curriculum è l'organizzazione e l'organizzazione è il curriculum questo è molto importante perché la parola curriculum ha a che fare con il termine strada con il termine percorso con il termine cammino e dopo noi l'abbiamo utilizzato solo per le discipline il curriculum sono le discipline e gli obiettivi distaccandosi anche da una versione comune che si usa nel mondo nel mondo fuori dalla scuola cioè il curriculum vita il curriculum vita dovrebbe raccontare il percorso di una persona che non è il percorso solo scolastico ma è il percorso di una vita le esperienze che ha fatto nei curriculum fatti bene ci si mette ad esempio che io sono stato capo scout o ho partecipato e ancora sono dentro un'organizzazione di cooperazione internazionale o faccio del volontariato in quell'associazione per i disabili e queste cose nel mondo del lavoro almeno nelle aziende aperte viene considerato nella scuola no nella scuola viene dato il voto alla disciplina invece bisogna passare lo dice anche Stefanelle dal voto ai crediti tu sei in questa associazione scout sei un capo ti do un credito ti riconosco questo come un aspetto di apprendimento non formale o informale importante allora l'organizzazione è il curriculum e il curriculum è l'organizzazione perché come diceva un mio maestro che ricordo sempre Cesare Scurati alla fine il curriculum che cos'è è tutto quello a cui viene esposto il bambino e il ragazzo appena varca la soglia della scuola quindi è tutto quanto perfino la relazione con i bidelli ma come è costruito l'edificio come sono e lo sappiamo benissimo gli arredi questo aspetto del curriculum come percorso noi lo ritroviamo in un approccio che forse è poco valorizzato in Italia che è quello di Zucchermaglio e di Clotilde Ponte Corvo se noi ricordiamo il libro che è stato scritto e Beatrice Ligorio la scuola come contesto noi ritroviamo proprio i fondamenti dell'approccio globale al curriculum anche se questo termine quando lo coniai non era direttamente collegato all'approccio contestuale ma ben presto me ne resi conto e sempre io ho cercato di puntualizzare l'approccio globale al curriculum significa avere questa visione contestuale della scuola dove la visione di sistema non è fatta solo dai soggetti cioè un sistema organizzato non è solo organizzato perché abbiamo presente gli elementi che coincidono a soggetti ovvero persone un sistema organizzato è fatto da soggetti ma anche da oggetti cioè da corpi da visioni da strategie ma anche da edifici da registri elettronici da sedi da armadi tutto questo è il contesto che dobbiamo tenere presente che si lega al tema della comunità allora il tema della comunità non funziona dice John Hattie focalizzarsi sul diminuire il numero il numero degli alunni per classe questo va detto chiaramente le classi pollaio di 30 35 non le vuole nessuno ma non è che a 15 10 alunni migliora la qualità della didattica cosa funziona invece secondo la fondatrice dello small schools movement Deborah Mayer funziona creare scuole piccole c'è il famoso numero dell'antropologo britannico Dunbar per esempio che dice che noi più di 150 persone non possiamo conoscere come amici ha fatto delle indagini antropologiche ad hoc 150 è il numero diciamo di riferimento per creare una comunità dove ci si conosce dove si può fare amicizia le scuole piccole secondo questo movimento fondato da Deborah Mayer possono contare anche 200 250 alunni si può arrivare a 300 ma dice Deborah Mayer un riferimento importante è il fatto che i docenti di queste scuole si possono ritrovare uniti attorno a un tavolo per lavorare discutere eccetera eccetera noi abbiamo collegi dei docenti che sono una cosa enorme e pletorica di qui l'idea non di abolire il collegio dei docenti ma di fare del collegio dei docenti una comunità di comunità professionale a me mi sembra un'idea straordinaria che dovremmo proporre con molta convinzione ci sono nove scuole non chiamiamole più pletorica un'idea e Temo che l'abbiamo perso, o è un problema solo mio? Anche voi non lo sentite più? No, no, nemmeno io. No, per tutti è un problema. Marco si stava collegando, non da casa sua, quindi aveva un piccolo dispositivo per collegarsi. Ecco, Marco. Tornato, tornato. Hai il microfono spento. Scusa, eh. No, non sapevamo più se... Ok. No, no, ho avuto un problema io. Allora, vado, finisco? Sì, prego, Marco. Allora, ricondivi, scusate, forse ho avuto un problema di linea. Ecco, si vede? Sì. Sì. Bene. No, dicevo, non funziona aumentare l'ore di scuola, funziona prestare attenzione alla comunità educante, lo dicevamo prima. Funziona, per esempio, la mappa dello studente, ma utilizzare il sistema dei crediti. I voti sono penalizzanti. Cioè, se io do un 5, si sa che sono in una situazione negativa. Se do un credito che è anche di primo livello, so che comunque ho qualcosa. Il 5, il 4, non ho. Quindi bisogna uscire da questa logica, che poi la logica dei crediti è anche quella che si sta tentando nell'università. Non funziona nemmeno aumentare le materie e gli obiettivi, ma non funziona nemmeno puntare oggi solo sui libri di testo. Io ho cercato nella mia scuola, ma ho cercato anche in Senza Zaino e qui bisogna fare una riflessione. Oggi, lo studio, per preparare questo lavoro come De Toni, come tutti voi, ho utilizzato tantissimo la rete. Ho letto il libro di Stefane L, ma sono andato a riguardarmi tanti materiali, anche rete, andando nel sito dell'Oxe, andando nel sito di Rosina e così via. Cioè, e noi lavoriamo solo con i libri di testo, che utilizziamo al 30%, cioè nella società che è tutta un'altra cosa. I ragazzi e i bambini già sono abituati a fare in un'altra maniera. Allora, forse qui bisogna fare una riflessione. Io tempo fa proposi anche, facciamo in modo che abbiano alcuni libri di testo, ma che abbiano anche i tablet. Se queste scelte le avessimo fatte prima della pandemia, in tutta Italia, ma anche nel nostro movimento, forse ora saremo in una situazione diversa. Funziona poi un curriculum essenziale. A me ha colpito l'approccio delle quattro C, per esempio, ma si possono dire anche le otto competenze. Le quattro C sono creatività, critica, comunicazione e collaborazione. Pensate a quello che ha detto De Toni. Stefano Stefanelle dice, ma guardate, ci sono degli approcci come la geostoria e la geopolitica. Io un po' provocatoriamente dico, le due materie fondamentali sono la storia e la geografia. È un po' provocatorio. Però nella storia c'è tutto. C'è tutto, c'è la filosofia, c'è la letteratura, c'è l'arte, c'è la musica. Nella storia c'è tutto. La storia dell'umanità, della civiltà. È il tempo la storia. E la geografia è lo spazio dove viviamo, che parte dallo spazio nostro, della comunità scolastica, della comunità prossimale, la comunità educante, la nostra città, il nostro paese, l'Europa, il mondo, ma anche il sistema solare e l'universo. Non per niente Maria Montessori insisteva sulla visione cosmica. La storia e la geografia riassumono tutte le discipline, tal che, per esempio, John Dewey diceva che la geografia, in modo particolare, è una forse principale. Io ci metto anche la storia, perché il tempo e lo spazio. L'uomo, Homo sapiens, fa esperienza di che cosa fondamentalmente? Del tempo e dello spazio. E quindi bisogna anche trovare il modo per cui si superi, anche nella scuola media, ma anche nella scuola secondaria superiore, il disciplinarismo. Detoni, da questo punto di vista, docet. L'uso di libri di testo, ma l'uso di edite, eccetera, eccetera, come dicevo prima. Sono arrivato alla conclusione. Dieci comandamenti che propongo, insomma è un riassunto di quello che volevo dire. Il middle management. Io credo che in Italia uno sforzo istituzionale sul middle management vada fatto e credo che anche il ministro, se vuole dare un nuovo inizio, si debba porre questo problema. I leader di scuola, cioè di plesso, e una gerarchia, non ho finito qui di scrivere, ma è la gerarchia non di dominio, ma di servizio. E sottolineo, perché noi mettiamo insieme gerarchia e potere. No, la gerarchia non c'entra, il potere c'è sempre. E le relazioni, qui ha fatto un bellissimo intervento, una sottolineatura grande la Giaccardi, dicendo che le relazioni, ma non solo quelle familiari, ma anche quelle scolastiche, sono sempre relazioni asimmetriche, perché ci sono delle competenze, delle conoscenze, delle informazioni che magari altri non hanno. E quindi le gerarchie ci sono, il potere c'è, e la gerarchia ha il compito di servire gli altri affinché gli altri assumano sempre più potere. Per esempio, al tema del sistema delle responsabilità o del consiglio dei bambini e dei ragazzi. Detoni ha sollevato il tema del merito. Bene, secondo me si supera il problema del merito se noi colleghiamo il merito alla responsabilità. Cioè, chi ha talenti, e il merito non è solo il merito che tu conosci bene la di Silvina, ma il merito noi lo dobbiamo riconoscere anche in funzione della capacità delle persone di far lavorare, cooperare le persone. Cioè, di esercitare una leadership di servizio. Allora, io ti riconosco questi talenti, ma al tempo stesso ti chiedo che tu sia responsabile mettere questi talenti al servizio degli altri. È la dinamica dell'apprendimento situato, novizi e anziani, che esiste, che va governata, e che è una relazione asimmetrica. Terzo comandamento. Pensiamo all'istituto Rete di Scuole e Comunità. Il dirigente che magari riunisce l'equipe dei leader di scuola e comunità, cioè le periferie, queste scuole che sono le vere unità di base, che devono avere valore. Nel nostro ordinamento si pensa all'istituto e al singolo insegnante, magari alla singola classe. L'unità di base, il mondo vitale della scuola, la sede, ma anche l'indirizzo di studi, il plesso, viene un po' messo da parte, obliterato. L'istituto deve funzionare, su questo punto mi pare, anche De Toni era in sintonia, deve dare linee guida. Noi abbiamo, il discorso di regolamenti faceva lui, vale anche per gli istituti scuola, abbiamo 20-30 regolamenti, che magari nessuno conosce. Però abbiamo l'ambizione di fare un regolamento per l'istituto che vale sia per la scuola dell'infanzia di quel paesino, che per quella scuola elementare, che per quella scuola media. No, il potere deve essere dato alle singole scuole che nell'ambito di linee guida per elaborare i regolamenti si fanno il regolamento specifico. Un altro aspetto importante, qui non abbiamo tempo per approfondirlo, però io vi consiglierei di guardare, le trovate su RaiPlay, le trasmissioni intitolate Sogno Azzurro. Credevo che fossero video di carattere ageografico, celebriamo la nostra nazionale. In realtà ho visto che non è così. In questi video si racconta la storia e il funzionamento di un gruppo. La storia e il funzionamento. Cioè ci sono le storie, gli eventi fondamentali delle persone, ma anche del gruppo, della squadra, che vengono rievocate. Raccontare questa storia e raccontarla in pubblico, io ho capito che è anche servita a Mancini per dare identità, come diceva De Toni, per dare identità al gruppo. Cioè il gruppo si fonda sulla storia di questa squadra, come il gruppo degli insegnanti e degli studenti, sulla storia di questa scuola, che non è la storia dell'istituto. L'istituto è la storia di storie. E allora, questo è stato uno degli elementi che io credo abbia fatto squadra. L'altro elemento sono i funzionamenti. Cioè in questi video noi vedevamo come lavoravano questi ragazzi, col fisioterapista, col dietologo, col massaggiatore, in campo con i vari assistenti tecnici. È veramente interessante. E quindi questo che cosa faceva? Da una parte, siccome il funzionamento, lo raccontavano direttamente gli atleti, rafforzava negli atleti l'importanza delle pratiche di allenamento e comunque le pratiche di preparazione proposte dall'equip di Mancini. È come quando noi, e io credo questa sia una cosa importante, quando noi abbiamo delle visite alle nostre scuole, entrano in una classe e i bambini raccontano la storia della scuola, non solo della classe, ma anche come funziona la scuola e la classe. Storia e funzionamenti. Io ho proposto che di storia e di funzionamenti si utilizzi anche, non è il sito della scuola. Le scuole italiane non hanno un sito, ne hanno gli istituti, che è un sito burocratico. Non esiste una comunicazione di storia e di funzionamento delle scuole italiane. A me sembra una cosa che non può stare in piedi, perché l'identità si crea con le storie e i funzionamenti. Ad esempio, De Tony ha raccontato la storia, il funzionamento della sua esperienza universitaria. Dentro le storie e i funzionamenti ci stanno quelli, a me fa piacere perché l'avevo in mente, e quindi ci siamo trovati in sintonia, i miti, i riti, le celebrazioni. Di nuovo Mancini, il rito che ha fatto tutte le volte prima dei rigori. Ma le celebrazioni, la vittoria dà identità. Allora, quali sono, per esempio, il Senza Zaino Day è una celebrazione importante per il nostro movimento, ma bisogna abituare le periferie, le unità di base, le scuole a fare delle piccole, significative celebrazioni. Io, per esempio, ho sempre consegnate all'inizio dell'anno, e questo lo dobbiamo chiedere ai dirigenti, la valigetta sostitutiva dello zaino. a ciascun bambino della classe prima, sia della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Sono dei piccoli, o la consegna dei diploma, ma le deve fare, in questo caso, il dirigente insieme all'idea della scuola. Formale, non formale, informale, sia per i docenti che per gli alunni. Cioè, se un docente è capo scout, per me è una cosa importante, se un docente partecipa a un'associazione di cooperazione internazionale, o di volontariato per gli anziani, io ho una cosa che devo valorizzare. Tre modelli, e finisco, siamo in fondo, tre modelli che noi abbiamo proposto, alcuni li ho ritrovati, per esempio, il tema del gioco, l'ha evocato De Toni, ma anche il modello drammaturgico, cioè la funzione attoriale del dirigente, ma anche degli insegnanti, e il modello dell'artigiano, con i sei aspetti che abbiamo nucleato. finisco, questo in modo particolare, sono tutti elementi che noi teniamo presenti anche nell'ora di lezione non basta. In modo specifico sono i tre modelli e i sette luoghi. Cosa sono i sette luoghi? Sono sette modalità di interpretare il funzionamento, ma anche le storie della comunità educante. Chiamando, nella comunità educante ci sono i luoghi di lavoro. Quali sono? Sono anche la scuola. Noi la scuola la tiriamo fuori dai luoghi. C'è la scuola, poi c'è l'azienda, c'è l'esercizio commerciale, c'è il bar, eccetera. No, la scuola è un luogo di lavoro dove vanno gli insegnanti a lavorare e dove vanno a lavorare anche i bambini e i ragazzi, perché è il loro lavoro. E quindi dobbiamo vedere la comunità educante fatta di luoghi di lavoro, come luoghi di comunicazione, perché si comunica sia a scuola o fuori dalla scuola. Ci sono anche dei luoghi di discussione, magari perché c'è il luogo dove si riunisce l'assemblea di quartiere, ma anche dentro la scuola ci si riunisce. I luoghi del gioco e delle arti, il luogo delle risorse, dove si vanno a cercare quelle risorse che servono per migliorare la comunità prossimale, la comunità educante, compresa la scuola. I luoghi del mercato, dove anche i ragazzi, la scuola fanno vedere i loro prodotti. E i luoghi di ascolto e di cura. I luoghi dove il disagio, il bisogno evidente di affiancamento trova una sua risposta. Ecco, questo è una. E ho finito. Finisco con Thomas Sergio Vanni. Dice che la scuola comunità è pensieri e visione, le relazioni. È una comunità di luogo, di funzionamenti, le pratiche, le idee di storie, e la leadership come gerarchia di servizio. Questa è la bibliografia e vi ringrazio per l'attenzione. Bene Marco, grazie a te. Grazie per la passione che ti metti. Abbiamo sferato di poco. Non abbiamo moltissimo tempo per le domande. Vediamo se comunque ce n'è qualcuna. Comunque mi fa piacere condividere con te un po' anche i commenti. Per esempio Rita dice d'accordo molto con la scuola come spazio formativo aperto nel pomeriggio, nei giorni non scolastici aperti alle associazioni. Dalmas appunto dice, sto apprezzando molto l'intervento di Orsi in quanto contestualizza maggiormente gli stimoli del professor Detoni. Per il momento abbiamo un po' questi rilanci. Non so se qualcuno vuole aggiungere brevissimamente qualcosa per commentare anche i temi che Marco ha lanciato. Sono temi sui quali abbiamo avuto anche altre volte fortunatamente la possibilità di confrontarci e questo è importante perché ci mette un po' anche in un percorso in cui possiamo veramente contribuire a cercare di far nascere quel pensiero collettivo, quel pensiero del gruppo che Detoni ha citato più di una volta dicendo che le diversità messe insieme riescono anche a far progredire poi gli stimoli della ricerca. Quindi questo sicuramente il movimento è un ambiente nel quale tutto questo può accadere. Allora non so se qualcuno vuole ulteriormente commentare è stata una mattinata lunga chiaramente siamo un po' stanchi impegnativa però molto bella ricca di entusiasmo anche mi è sembrato di respirarlo. Bene allora io credo che se Marco si è d'accordo il materiale anche che oggi ci hai fatto vedere può essere lasciato alla disponibilità di tutti abbiamo un po' anche l'idea di cercare di organizzare gli stimoli che ci stiamo dando in questo ciclo di seminari capiremo meglio come poterlo fare però qualche idea c'è per provare proprio anche a farne come dicevi te oggettualizzandolo un prodotto Patrizia che ha detto in questo ci può dare una mano Benissimo Patrizia Faccio anche quelli di oggi tranquilli così da poter in qualche modo di condividere con strumenti diversi sintetici anche ok un po' le cose che stanno emergendo e che appunto spero che diano un ulteriore la discussione costante che sui temi anche il movimento anima con le tante esperienze da valorizzare di tutti voi docenti di tutti voi presidi dirigenti che avete grande esperienza avete da raccontare le storie ma anche raccontare scambiare i modelli no che a poco a poco emergono dalle storie che nelle vostre scuole si creano quindi davvero la comunità delle scuole senza zaino in questo senso è una enorme risorsa da utilizzare proprio come pensatoio direi no dove da animare collettivamente bene quindi ringraziamo anche te Marco ti ringraziamo doppiamente perché questa era la tua settimana di riposo nonostante questo non ci hai fatto mancare il tuo supporto e hai come al solito portato dei contenuti su cui ti sei preparato in maniera veramente attenta e anche questa tua come dire estremo rigore ecco sempre credo che vada apprezzato e te ne ringrazio ringrazio tutti voi che avete condiviso con noi questa mattinata ringrazio anche un po' diciamo le braccia più operative ecco della comunità senza zaino ed anche del progetto l'ora di lezione non basta che hanno condiviso con noi lo spazio di discussione da Patrizia, Nesi a Daniela, Pampaloni Maria Paola e poi chiaramente tutta la cabina di regia Marzia, Silvia, Matteo Fabio e coloro che hanno potuto essere ci vi porto anche i saluti per chi lo conosce per le scuole soprattutto della comunità dell'ora di lezione non basta di Riccardo Romiti che questa mattina non poteva essere con noi per un altro impegno professionale e se ne scusa ma vi saluta tutti con affetto Rosetta ringrazia per i due interventi illuminanti dice opportunità di riflettere e trovare spunti per il miglioramento il suo è quello di tanti ringraziamenti e apprezzamenti per questa mattinata che sulla chat si possono leggere ringraziamo voi per la vostra partecipazione sempre così generosa e vi auguro una buona giornata e ci vediamo però il prossimo alla prossima settimana per l'ultimo degli appuntamenti di questi tre seminari sulla leadership educativa leggera e la comunità educante l'appuntamento è per il prossimo 20 di luglio l'orario è sempre quello dalle 9 alle 12 lo strumento lo valutiamo anche un po' sulla base delle presenti quindi nel momento in cui fossimo tanti come oggi era potrà essere lo streaming sui canali di YouTube o la piattaforma Zoom ma su questo vi daremo agli iscritti insomma dettagli per potervi far partecipare avremo una discussione sulla comunità educante e la faremo insieme questa volta a tre ospiti ci sarà qualcuno dell'impresa sociale con i bambini non sappiamo se potrà esserci Marco Rossidoria o in sua sostituzione Francesco Marini che però è un'esperienza interessante perché è proprio una delle persone che sta in questo momento monitorando i progetti attivi con i bambini quindi una grande esperienza di territorio che ci potrà eventualmente raccontare se Marco non riuscisse ad essere con noi abbiamo poi Cristiano Bottone che è il promotore in Italia del Transition Movement e quindi ha una grande esperienza un po' sul tema dell'approccio organizzativo di comunità e quindi potrà raccontarci un po' come poter far crescere questa comunità educante stessa cosa per Pasquale Bonasora che è invece all'interno di LabSus colui che si occupa proprio di sviluppo locale e promozione della comunità educante quindi anche la prossima volta nomi di alto profilo che ci possono aiutare in questo dialogo anche al di fuori del movimento per avere ulteriori stimoli vi aspettiamo tutti e buona giornata grazie mille per la vostra partecipazione ciao a tutti ciao 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 ciao